De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Titta Ferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori, Tremolada presente? Mi scusi, per cortesia, risultano 20 consiglieri presenti e 5 assenti. La seduta è valida. Cortesia, invito tutti ad alzarci in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. 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 Occorrono tre scrutatori. Chi si offre? Volontario. Vavassori, Torraco e Cremonesi. Grazie. Volevo dire, prima di trattare gli argomenti ad ordine del giorno, vi chiedo a tutti voi di osservare un minuto di raccoglimento per le vittime della recente sciagura in Sardegna. Grazie. 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 Allora, proseguiamo. Prima di trattare la prima delibera, la parola al Sindaco. Prego. Prima di tutto un'informazione, visto che ho visto che ci sono un po' di consiglieri che pensavano che se non si pagasse oggi il parcheggio e alcuni si sono allontanati, per chi avesse la macchina qui sotto e non avesse pagato il parcheggio è consigliabile scendere per pagare, visto che qualcuno sta delegando altri con tanto di chiavi senza che le macchine ovviamente verranno spostate per pagare. Pure informazione di servizio. Al bilancio e questo è stato anche oggetto di una discussione all'interno della Capigruppo, anche perché questo mio ritiro è arrivato a ridosso della convocazione del Consiglio Comunale precedente. Le motivazioni di questo ritiro le ho esplicitate durante la Capigruppo, facendo però il riferimento conseguente in modo coerente alle dichiarazioni che già erano state assunte da me nell'ultima Commissione Consigliare. In quell'ultima Commissione Consigliare si presentava una delibera che è all'ordine del giorno sull'aumento dell'aliquota IMU, che però avrebbe dovuto essere, se presentata, immediatamente accompagnata da un emendamento, per garantire che l'aumento dell'IMU, il passaggio dallo 04 a quello che si proponeva 06, non ricadesse sui cittadini. Per fare questo abbiamo voluto seguire fino all'ultimo il dibattito e soprattutto avere la certezza degli atti che dal Governo potevano arrivare. Ad oggi le informazioni che abbiamo, anche se sono informazioni molto vicine e che crediamo saranno abbastanza coerenti rispetto al testo che verrà pubblicato, ma che ad oggi non è ancora pubblicato, contengono dei margini di incertezza che non ci sentiamo di fare nostri, perché questo probabilmente potrebbe voler dire far recadere sui cittadini una quota della fiscalità aggiuntiva. Abbiamo anche, a onore del vero, valutato tutte le ipotesi da un punto di vista tecnico, perché questo non potesse accadere. I margini di incertezza permangono, conseguentemente io chiedo il ritiro della prima delibera che è all'ordine del giorno e quindi passare successivamente alla seconda. Grazie. Grazie. Quindi, come sappiamo che è previsto dal regolamento il ritiro della delibera, quindi andiamo avanti subito con il secondo punto all'ordine del giorno. Parazione al bilancio di previsioni 2013 e assestamento al bilancio 2013. La parola al Consigliere Teormini come relatrice di Commissione. Prego. Buon pomeriggio a tutti e grazie Presidente. La variazione di bilancio che andiamo a discutere è l'ultima dell'esercizio 2013, per cui si parla di assestamento di bilancio. A seguito di tali variazioni viene mantenuto il pareggio finanziario e sono assicurati gli equilibri per la copertura sia delle spese correnti sia per il finanziamento degli investimenti. Il totale delle entrate, che risulta in pareggio rispetto alle uscite, passa complessivamente da 117.474.000 euro erotti a 125.603.000 erotti. Tale variazione si rende necessaria per quattro motivi. La quantificazione del fondo di solidarietà comunale da parte dello Stato, avvenuta pochi giorni fa. La manovra IMU sulla prima casa. L'accantonamento di 500.000 euro per il ripiano delle perdite dell'azienda speciale farmacie. E per le richieste provenienti da alcuni settori dell'amministrazione comunale. Partiamo dalle spese, che aumentano significativamente a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicato a fine ottobre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 novembre scorso, in cui venivano definiti i criteri per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale. Comunale nel senso che i comuni devono partecipare alla costituzione di questo fondo, che poi viene ridistribuito agli stessi secondo i criteri e parametri stabiliti sempre all'interno di questo decreto. Secondo quanto indicato dal decreto, il Comune di Sesto San Giovanni deve versare al fondo di solidarietà una somma pari a 7.194.959,79 euro, che si traduce nel 30,75% del totale del gettito standard IMU del 2013. Una spesa che non era prevista e non era preventivabile in bilancio, in quanto decisa e comunicata dal Governo praticamente allo scadere della chiusura del bilancio stesso. Il Comune di Sesto però beneficerà di questo fondo di solidarietà comunale, prima erano i trasferimenti, per una cifra pari a 9.292.861 euro. A prima vista il conto potrebbe sembrare inattivo di 2 milioni, ma non è così, in quanto i contributi del fondo di solidarietà comunale in entrata, ovvero i 9 milioni di cui dicevo prima, erano stati inseriti nel bilancio iniziale per una cifra di 7.900.000 euro, quasi 8 milioni. Così non è avvenuto, ma non poteva avvenire per questioni di tempo, per le uscite del fondo di solidarietà, ovvero per i 7.000.000 euro, erotiche di 194.000, eccetera, comunicati appunto in un tempo troppo breve. Facendo il saldo tra dare e avere rispetto al versamento per alimentare il fondo di solidarietà comunale, ossia i 7.194.000 euro in uscita, i contributi ricevuti dal fondo solidarietà comunale, 9.292.000 in entrata, e una minore trattenuta da parte dello Stato relativamente ai titoli D, ovvero alla prima casa, si pensava qui ad una trattenuta da parte dello Stato di circa 8 milioni e mezzo, invece questa trattenuta è stata inferiore e si è attestata intorno ai 5 milioni e mezzo. Questa non era una previsione inventata, ma fatta secondo le indicazioni provenienti dal Lanci e dall'IFEL. Si determina quindi, facendo tutto questo conteggio, un saldo negativo di 3.656.172,16 euro. Ora, vediamo come vengono riequilibrate queste spese. Non parlo delle minori entrate perché le ho già inserite nel conteggio che ho fatto all'inizio. Nel titolo 1, quindi le entrate tributarie, ci sono maggiori entrate per l'imposta comunale di pubblicità per circa 76.000 euro, una maggiore entrata anche per i ruoli ICE e violazioni per 813.000 euro, un recupero che riguarda la tassa occupazione suolo per 238.000 e rotti euro, e anche un recupero per la tassa smaltimenti rifiuti pari a 70.278 euro e centesimi. Nel titolo 2, che sono invece i trasferimenti correnti, il contributo proviene dallo sviluppo di investimenti, dove c'è una maggiore entrata per 55.000 euro, altri trasferimenti dello Stato che sono dati ai comuni che hanno registrato un maggior taglio di risorse, operato nel 2012 e parliamo di 867.961 euro. Per l'entrata extra tributarie, che fanno parte del titolo 3, c'è un aumento di 26.599 euro per gli affitti delle sale cultura, un recupero delle rette della riflessione che riguardano gli anni 2011 e 2012, pari a 395.000 euro, concessioni d'uso per 102.000 euro, recupero contravenzioni, qui la maggiore entrata è di 883.000 euro, rimborso spese che riguardano invece gli stabili per 80.000 euro. Ci sono poi i cosiddetti contributi finalizzati, ossia quelli che entrano ed escono perché sono già stati finalizzati ad un progetto e sono due. Il riadattamento del 1.000 per 180.000 euro riguardo a un contributo della Fondazione Cariplo e poi il progetto Non ho l'età dove c'è un'entrata di 99.000 euro e un'uscita di 84.000. Infine, con la deliberazione del Consiglio Comunale dell'aprile 2013, è stato approvato il rendiconto della gestione 2012, dove appare un avanzo di 579.000 euro e 951,90 centesimi. Con quella deliberazione noi proponiamo di utilizzare parte di quel fondo, per l'esattezza 500.000 euro, per ripienare le perdite dell'azienda speciale farmacie comunali. Tutto quanto detto, si conclude dicendo che non ci sono variazioni sul bilancio pluriennale degli anni 2014-2015 e che la seguente variazione osserva gli obblighi fissati dal patto di stabilità. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. La stessa facoltà ce l'ha l'assessore per intervenire. Prego. Grazie Presidente e grazie a tutti. Dunque, abbiamo ritenuto doveroso restare nel dibattito fino all'ultimo, prendendoci tutto il tempo necessario per le analisi, gli approfondimenti e per lavorare letteralmente giorno e notte per non privare la nostra città di eventuali opportunità aggiuntive. Per non arrivare a dirci, non ci abbiamo provato fino in fondo. Con un orgoglio solo parziale, perché a queste risorse aggiuntive non riusciamo a iscriverle nel nostro bilancio, però con orgoglio noi tutto il possibile l'abbiamo fatto. E coerentemente abbiamo deciso di tornare all'assestamento discusso in origine, come quello che è stato relazionato dalla consigliera Teormino, per non far correre alcun rischio neppure ipotetico alla nostra città. Riteniamo che questo sia l'impegno e la coerenza del buon amministrare. Credo sia utile ricordarci, in premessa, rispetto al tema del nostro bilancio di assestamento, del percorso delle leggi e dei decreti che si sono affastellati quest'anno e che hanno condizionato profondamente la stesura del nostro bilancio, delle variazioni, delle scelte di politica fiscale, leggi e decreti che riflettono uno stato della finanza pubblica estremamente problematico per usare un eufemismo, la durezza dei vincoli e degli impegni assunti con l'Unione Europea e anche la problematicità dell'agire di un governo di coalizione tra formazioni, o un ex governo di coalizione, tra formazioni profondamente diverse nei programmi e nell'ispirazione politica, anche in materia fiscale. Da ultimo, appunto, il vorticoso rincorrersi delle notizie sull'Imu di queste ultime ore, con una dialettica paradossale che si è trasformata di più in un tiro alla fune, in una partita di scacchi o forse nel gioco delle tre carte. Emerge in tutto ciò l'assoluta continuità nella scelta di gravare in modo estremamente brutale sugli enti locali, sui quali anche quest'anno si è schiaricato in modo chiaro ed esplicito larga parte dell'impegno sia sulla riduzione del deficit pubblico sia nella tenuta del patto di stabilità nazionale, che a quanto pare vale solo per gli enti locali, visto che altri hanno un rispetto molto più elastico. Ai tagli nei trasferimenti statali già decisi negli anni scorsi, tagli che peraltro ai noi si riproporranno anche nel 2014, si è aggiunta la scelta tutta politica e legata alla evidentemente fragile tenuta della ex maggioranza di governo di cancellare indiscriminatamente l'IMU sulla casa di abitazione, pur in presenza di grandi difficoltà nella copertura e nella dimostrata difficoltà appunto nella copertura da parte dello Stato delle mancate entrate. Forse sarebbe stato più semplice lasciare ai comuni la scelta della gestione dell'IMU e intervenire in maniera trasparente sui trasferimenti, invece che con tutte le alchimie di queste ultime ore, dove ancora non è ufficiale chi paga che cosa e quanto al 30 di novembre. L'esempio è la ripicca, per cui è obbligatorio far pagare a tutti i costi i cittadini, far fare la figuraccia ai sindaci come se fosse il tempo dei dispetti e non quello della condivisione degli sforzi e degli impegni e del rispetto dei cittadini. Rispetto che noi, con questo slittamento ad oggi e con la scelta descritta dal sindaco, tentiamo di rappresentare coerentemente. Ricordo in questo contesto anche la sconcertante vicenda della Tares, che ha richiesto inutilmente tempo e lavoro. Ricorderete, torniamo alla Tarsu, e l'anno prossimo il quadro sarà ancora diverso, ma che è emblematica di un approccio alla finanza locale che va di pari passo con un riordino del sistema delle autonomie locali, che ad oggi, per usare un eufemismo, è del tutto incompiuto. Tutti questi elementi hanno già reso difficile a giugno tecnicamente e politicamente l'adozione del bilancio preventivo, e incidono oggi sull'assestamento che ci troviamo ad adottare. Partirei dunque con la partita del Limo e del connesso Fondo di Solidarietà Comunale, che si è definita con un decreto adottato il 25 settembre, reso noto il 30 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 novembre, una tempistica probabilmente non casuale. Vediamo come queste decisioni impattano sul nostro bilancio. La variazione riguarda cifre consistenti, come è stato riportato dalla consigliera Tormino, siamo oltre 8 milioni e 100 mila euro di movimentazione complessiva in entrata e in uscita, e gran parte è costituita dalla partita di giro del Limo sulla prima casa, discutibile scelta centrale della sua abolizione a prescindere, anche perché tutti i requisiti di reddito e patrimoniali per pagare un'imposta che pur con la delicatezza che è il tema nel nostro Paese, non è un'angheria dello sceriffo di Nottingham, come è stato detto, ma è figlia di un banale principio di equità e progressività nella tassazione del patrimonio. Ad oggi per noi questa decisione impatta per oltre 5 milioni e 500 mila euro di partita di giro sul totale della variazione. L'elemento contabilmente, ma soprattutto politicamente più rilevante della variazione, è la quantificazione delle ricadute che l'istituzione del cosiddetto Fondo di Solidarietà Comunale ha sul nostro bilancio. Il fondo ha sostituito i trasferimenti dallo Stato ed è la contropartita per aver lasciato tutta l'Imu ai comuni, che poi tutta tutta non è evidentemente, visto che allo Stato va il gettito di capannoni, uffici e alberghi. I comuni devono concorrere la costituzione del fondo per il 30,75% del gettito Imu stimato e dal fondo derivano anche i trasferimenti ai comuni e questa è la stima che è divenuta nota appunto solo poche settimane fa. Per noi significa che, come è stato scritto in questa variazione, ci vengono trattenuti come maggiore spesa per alimentare il fondo 7 milioni e circa 200 mila euro e ce ne vengono dati due in più per arrivare a complessivi 9,282 milioni. Rispetto all'anno precedente, quindi riceviamo 2 milioni dal fondo di solidarietà, ma subiamo ora una nuova trattenuta di 7 milioni per alimentarlo. Questo corrisponde a trasferimenti statali effettivi di varia natura di circa 3 milioni di euro, cioè 5 in meno di quelli su cui si contava fino a qualche mese fa. Basti pensare che i trasferimenti statali nel 2010 erano pari a 22 milioni e quindi ben si comprende la situazione in cui ci troviamo. È possibile governare con questi presupposti un territorio in un momento così difficile sia per l'economia sia per i cittadini? Per programmare e governare bisogna, io credo, conoscere le regole del gioco e le risorse di cui si dispone. Tenete conto, tra l'altro, come probabilmente già sapete, che almeno 480 comuni italiani, in virtù delle logiche di questo dare e avere, hanno scoperto oggi di dover addirittura restituire dei soldi allo Stato. E di qui cosa succede? Si alza l'IRPEF, si alzano le tariffe dei servizi comunali, oppure, per gravare il meno possibile sui cittadini, come sappiamo, si manovra sull'aliquota dell'Imu nella prima casa, nella speranza che lo Stato ricalcoli i rimborsi sulla base della nuova aliquota, non una furbata, ma dati presupposti, direi, più che altro legittima difesa. Noi, come riusciamo a tenere? Innanzitutto, come è stato scritto nel bilancio preventivo e come dichiarato in Consiglio, manteniamo l'impegno di non alzare nel 2013 la tassazione locale, tenendo invariata aliquota IRPEF, fascia di esenzione, aliquote IMU, le sudatissime tariffe Tarsu e il gettito complessivo delle tariffe su servizio a domanda individuale. Un impegno che si è trasformato in una vera e propria guerra di trincea che quest'anno siamo riusciti a vincere. Come si tiene? Quindi ci aiuta una stima ministeriale più favorevole rispetto al gettito IMU dei fabbricati di categoria D e al puntuale lavoro di recupero dell'evasione fiscale effettuato dagli uffici. Questo ci permette di scrivere a bilancio cifre importanti derivanti dall'ICI, dalla Tarsu e dalla Tosa Pevasa. Importanti anche i recuperi della rette mensa 2011-2012, le sanzioni combinate e comunque il certosino lavoro di recupero di ogni ufficio. Altro punto, e chiudo, politicamente rilevante di questo assestamento di bilancio riguarda l'azienda speciale farmacie comunali. Non disponiamo ad oggi del consuntivo aziendale del 2012 che commissario e direttore stanno adeguando ai rilievi della due diligence. Sappiamo comunque che vi sarà una perdita molto significativa. Con la variazione effettuiamo quindi un accantonamento di 500.000 euro da destinare al ripiano della perdita. Questi soldi derivano dall'avanzo di gestione del 2012. Come ricorderete, il bilancio precedente si era chiuso con un avanzo di parte corrente di circa 5.570.000. 5 milioni erano stati indirizzati agli investimenti e 570 costituivano quindi l'avanzo della gestione complessiva. L'avanzo non era fin qui stato utilizzato neanche negli anni precedenti per coprire spese correnti. Data l'eccezionalità della situazione invece, siccome la legge lo consente si è scelto di effettuare l'accantonamento per questa partita straordinaria. Si opera quindi una scelta che ovviamente riguarda il nostro bilancio e cioè le risorse della collettività ma che, come ci eravamo impegnati a fare non impatta direttamente sulle tasche dei cittadini. Rimangano intatte le preoccupazioni per il futuro rispetto alle quali si è elevata, si leva e continua a levarsi in queste ore la voce di molti sindaci e anche e soprattutto del Presidente dell'Anci Piero Fassino così come rimane elevato il nostro impegno nella sempre maggiore razionalizzazione della spesa corrente del Comune un impegno che naturalmente già guarda e riguarda il bilancio 2014. Grazie. Grazie all'assessore Montrasio. Non è oscurato e non riescono a vedere allora io le chiedo Presidente, Vice Secretario di verificare l'anomalia se viene registrata e se eventualmente non fosse partita la registrazione credo che sia giusto e doveroso far ripetere gli interventi da parte del Sindaco dell'assessore perché la città possa conoscere appieno le loro dichiarazioni a meno che non mi confermiate che sia registrata e non mi ha messo tutto in linea però mi sta dicendo che non vedono e non sentono proprio il portale è offuscato. Facciamo la verifica facciamo la verifica grazie. Comunque la registrazione la trascrizione la registrazione avviene in modo integrale quindi io direi di andare avanti sicuramente ma sicuramente beh dichiaro aperto il dibattito i consiglieri sono pregati di prenotarsi grazie ha chiesto la parola il consigliere la Miranda ne ha facoltà prego si se fa menzione giusto che per prudenza mi scusi no volevo annunciare che ha chiesto il raddoppio dei tempi prego grazie ma devo dire che l'ora insolita rende forse più indigesto anche parlare di temi economici sicuramente e di bilancio sicuramente non ho gradito come è stata affrontata da parte di questa amministrazione e del sindaco una questione che è stata apparentemente rappresentata come una battaglia politica ma che di fatto si traduce in una situazione di incertezza economica di questa amministrazione e mi spiego meglio mercoledì erano già chiare le cose mercoledì il governo aveva già deciso ed era stato anche prudente nel fare il comunicato stampa ma nel guardare sui vari siti specializzati le questioni specifiche e in particolar modo anche dell'Imo si potevano trarre tutte le cognizioni tutte le informazioni occorrenti a capire e in particolar modo e tant'è che oggi ne ho avuto riprova di questo perché anche la la CIA di Mestre è uscita con un comunicato confermato poi dopo dagli esperti del Sole 24 ore che il differimento ad esempio del pagamento dell'IRES e non dell'IRPEF dal 2 al 10 di dicembre non è avvenuto per caso tanto è vero che io ero già contento che ho detto ah che bello guadagno 7 giorni di tempo per pagare le tasse no lunedì mattina bisogna pagare le tasse noi cittadini persone fisiche produciamo reddito con partita IVA invece le società opportunamente hanno avuto un aumento di una settimana perché mica per grazia è perché se entro stanotte a mezzanotte il governo materialmente non ha a bilancio un miliardo e mezzo di euro derivanti dal gettito previsto dalla sanatoria di giochi e dell'IVA derivante dall'attività di commercio e dell'attività dei liberi professionisti c'è la clausola di salvaguardia della prima rata dell'IMU e guarda caso torniamo sempre a discutere dei soliti problemi che consente al governo l'aumento della percentuale dell'IRES e quindi ovviamente lunedì è il giorno idoneo per fare il decreto d'urgenza pubblicarlo in gazzetta e dargli quindi efficacia a Erga Omnes e quindi chiedere al 10 di dicembre a tutte le società di versare l'IRES maggiorata perché non c'è la copertura per l'IMU e c'era già scritto mercoledì non che fate così c'era già scritto mercoledì e mercoledì c'era già scritto che l'IMU chi aveva deliberato o chi voleva deliberare l'aumento dallo 0,4 in poi lo pagava nella misura che era stata prevista concorrenziale quindi non era una scelta solo politica era una scelta economica tanto è vero che onestà intellettuale Tosi ma che non ha avuto altri sindaci di sinistra invece Tosi ha avuto l'onestà intellettuale di dirlo in televisione pubblicamente ha detto lo so benissimo come funziona ma io avevo un bilancio da sistemare e coscientemente ho fatto l'aumento dello 0,2 rispetto alla quota soglia base rimborsata dallo Stato sarà lui che dovrà rendere conto i suoi cittadini del perché e spiegare per quale motivo ha chiesto un prelievo ulteriore sulla prima casa rispetto a quanto è la franchigia concessa dallo Stato e su cosa ha finalizzato quella soma perché io sfido chiunque che se dimostrerà che è stata fatta per un buon fine difficilmente qualche cittadino avrà qualcosa da obiettare ma non rappresentata così questo non lo so non lo so però dipende perché dipende da qualcosa difficilmente avrà dipende il rosa però sicuramente ha fatto se come viene detto da molti un buon sindaco perché il problema è il buon sindaco non è chi sa ben parlare e chi sa ben amministrare i conti al pari di come ci viene detto un buon sindaco Renzi al pari di molti altri che ci vengono detti essere sindaci di destra e sinistra quindi non è importante il colore politico è importante l'onestà intellettuale Pisapia non l'ha detto ma la sostanza lo sappiamo aveva un problema di bilancio e quindi l'aumento dell'Imu l'ha fatto forzatamente per coprire ovviamente i suoi buchi di bilancio da dove derivarsi non è compito di questo consiglio comunale ma la sostanza è dirlo chiaramente ora invece a noi è stata rappresentata una cosa diversa è stata rappresentata la necessità di fare una battaglia di condivisione politica ecco scusate sul bilancio e sul portafoglio della gente le battaglie politiche non si fanno le battaglie politiche si fanno su altri principi su altri come è stata la battaglia dell'acqua pubblica che avete fatto ma non sul portafoglio della gente perché semplicemente se come c'è stato rappresentato non c'era bisogno di avere un maggiore introito di oltre 2 milioni e mezzo di euro a bilancio perché siamo a costo beh è una battaglia politica che era assai costosa per i nostri cittadini e su questo si poteva dare un principio di solidarietà non si faceva una mozione di solidarietà a quei sindaci che avevano dovuto eventualmente aumentare perché non avevano possibilità di fare altrimenti per non gravare ulteriormente su altre spese su altre funzioni del bilancio e del comune ma non scaricare così impropriamente con questa affermazione sui cittadini una battaglia politica tanto più che poi dopo come ottimamente invece ha fatto emergere in consensione la consigliera Landucci apparentemente qualcuno ha affermato dell'amministrazione che era a salto zero per i cittadini nel senso che non tiravano fuori una lira quando in realtà non ce l'ha già scritto così nei provvedimenti del governo è su questo che diciamo si è poi scivolato perché fare certe promesse poi dopo in commissione non si riescono più a mantenere poi a portare a correggere il tiro e se in commissione si viene a dire l'aumento c'è poi a me l'aveva detto il presidente di commissione quindi quando me l'aveva preannunciato ha detto una semplice variazione che facciamo a saldo zero perché nel senso i cittadini non tireranno fuori niente se ci verranno dati in più li metteremo come li prevediamo in più come spesa poi ha sempre facoltà di smentirmi però questa è stata la rappresentazione della delibera di aumento del limbo che mi era stata fatta dal presidente di commissione e ho detto se è così portatela avanti non c'è problema poi dopo nell'arco della giornata invece le questioni sono state più chiare tanto è vero che poi dopo il mercoledì ha preso la notizia della variazione è stata fatta poi il giorno dopo la capigruppo famosa d'urgenza mi sono confrontato anche con alcuni anche della maggioranza e poi ho lasciato anche detto il mio pensiero diciamo come doveva essere cioè che il consiglio era quello di ritirare immediatamente comunque questo tipo di delibera e di andare semplicemente a fare l'assestamento di bilancio e lasciare le battaglie politiche ad atto se invece era un problema effettivo di bilancio lo si diceva chiaramente e si faceva la battaglia in questo senso se invece ci si crede che era una battaglia legittima politicamente da sostenere la si fa allora si crede nelle idee e si fa pagare il cittadino perché gli si dice è una battaglia politica ti piace o non ti piace caro mio concittadino noi facciamo battaglie politiche quando facciamo il bilancio del comune e quindi paga ma non rappresentare diversamente lo stato io credo che questo abbia dimostrato e dimostri la non adeguata capacità della giunta da questo punto di vista perché poi cercare di far quadrare e tenere incollati per tre giorni i vari funzionari dirigenti impiegati per rimodulare tutto rifare i bilanci rimettere a posto tutto sull'incertezza perché poi eravamo sempre sulla soglia della crinale dell'incertezza assoluta con come tra di noi ci si era detto la certezza assoluta che non sarebbero cambiate le cose anche perché abbiamo un problema il governo qualunque piccola variazione fa nelle sue coperture deve rendere conto a Bruxelles e quindi sappiamo già che siamo in una situazione di equilibrio precario anche cambiare questi piccoli saldi che per noi sono dei grandi saldi comporta anche per lo stato dover aggiustare e fare dei provvedimenti di aggiustamento e fatta la legge ovviamente di stabilità non era più possibile intervenire su questa misura quindi quando l'assessore mi dice abbiamo predisposto un bilancio d'orgoglio cercato di predisporre io credo che dimostri la carenza allora da questo punto di vista strutturale i bilanci non sono bilanci d'orgoglio i bilanci di un'amministrazione su pubblica sono i bilanci per mandare avanti l'amministrazione la cosa pubblica non per fare principi di orgoglio si tratta di fare i buoni amministratori quello che io ho sempre detto e credo che chi è stato in consiglio comunale anche negli anni passati non potrà non dire che non è così ho sempre detto che all'interno del bilancio ci sono alcune voci specifiche che dimostrano ciò che caratterizza appartenere a un'area politica a un'altra area politica ci sono i piani di dismissione delle privatizzazioni o altre forme all'interno di una costruzione di un bilancio maggiori taglia la spesa corrente o minori taglia la spesa corrente queste sono le cose su cui si vede effettivamente dove c'è un minimo di differenza ma nell'amministrare a saldo invariato perché poi è questa la sostanza è lì che bisogna aggiostrarsi e essere veri amministratori e allora quando si chiede il sacrificio ai cittadini bisogna essere i primi a fare i sacrifici e quando si chiede si mette a bilancio una perdita di un'azienda come le farmacie comunali e quindi si chiede un prezzo da pagare ai nostri cittadini perché sottraiamo risorse e quando poi si rappresenta come poi discuteremo quando ci sarà l'apposito seduta di consiglio anche di trasformare questa azienda eccetera con delle situazioni senza prendere atto della situazione reale di debito e inserirla materialmente tutta e avere il coraggio e la forza di inserirla tutta in un bilancio perché non è inserita tutta nel bilancio la perdita viene spalmata legittima o non legittima ce lo diranno a questo punto la procura della Corte dei Conti perché è l'unico organo preposto a vigilare su questo perché non è che perché lo mandiamo noi è perché per sua natura queste cose vengono mandate d'ufficio alla Corte dei Conti per il controllo io credo che questo doveva essere la vera prova dell'amministrazione della Giunta e del Sindaco e su questo io credo che abbia sbagliato la figuraccia non la si fa quando si va a chiedere i soldi perché la figuraccia si fa quando si danno queste situazioni di incertezza assoluta e ci si va a mettere in un ginepraio che si poteva evitare tutto qui si trattava semplicemente giovedì già di prendere atto di quello che era l'incertezza assoluta e di dire eventualmente con una telefonata caro Pisapia concordo in pieno nella tua battaglia tra virgolette politica se la vuoi chiamare così ma non è una battaglia politica perché in realtà era una battaglia di bilancio però purtroppo io devo amministrare anch'io il mio comune io voglio certezze contabili e quindi io la battaglia politica farò una mozione eventualmente di condivisione di criticità ma non faccio una battaglia di fare una variazione per farla uguale come l'hai fatta tu per dire anche Milano l'ha fatta o che far dire a Pisapia anche Sesto l'ha fatta io mi tengo la mia Imolo 04 e vado a farmi il mio assestato questo era quello da fare un buon sindaco con la testa sulle spalle non creare questa incertezza portarci l'ultimo giorno utile perché poi sappiamo che il decreto prevederebbe la possibilità di farlo più avanti l'assestato ma anche su questo siccome non c'è assolutamente la certezza di questa cosa perché si legge non si legge anche questa cosa qui su questo do ragione prudenzialmente il 30 di novembre va a fare l'assestato ho capito ma esattamente quello che avremmo dovuto fare tranquillamente anche giovedì ritirando la delibera a Imu senza sperare di avere una interpretazione perché poi alla fine doveva venire fuori un'interpretazione autentica del governo del proprio provvedimento perché vorrei capire cosa poteva fare diversamente il governo fare un ulteriore provvedimento di interpretazione no non erano i termini perché si possono fare i decreti di interpretazione ma non aveva i termini di legge per poterlo fare quindi al massimo doveva fare un comunicato che doveva smentire altri tipi di comunicati fatti dal ministero o quant'altro per dire semplicemente ci accogliamo tutto e poi vedevano come accollarsi tutto lo 0,6 o meglio lo 0,2 di differenza che non era previsto o meglio il 40% dello 0,2 per mille previsto io credo che questo sia stato il vero errore di fondo tanto è vero che non potete dire che ho forma di pregiudizio 15 giorni fa vi ho detto che grazie all'oculatezza con cui gli uffici si erano comportati nella previsione a bilancio della Tarsu non ci eravamo ingolfati in quel ginepraio pure che è venuto fuori con la delibere famosa sulla Tarsu io infatti su questo avevo dato che a differenza ad esempio Cinisello che è rimasta invece impantanata in questo problema e su questo avevo dato atto che l'oculatezza di mantenere nella spesa delle entrate esattamente quello che era la spesa e l'entrata storica arrivante da questa voce è stata fatta con prudenza correttamente ed è stata fatta e mi avevo dato atto pur non avendo votato la delibera o quant'altro e avevo semplicemente dato atto come sintomatico quello sì di aver fatto buon governo per quella voce di spesa e di entrata io credo che come quell'epoca vi ho dato come quei giorni vi ho dato atto di questo oggi legittimamente posso censurare tutta questa situazione che si è venuta a creare alla maggioranza alla giunta e soprattutto al sindaco che ha dimostrato mi spiace ma di non essere adeguatamente all'altezza nel prendere decisioni sulla non politiche in questo caso politiche sono parzialmente perché qui si trattava di un bilancio cioè l'atto principale del nostro comune l'atto principale per mandare avanti la macchina amministrativa ma è l'atto comunque un atto fondamentale l'abbiamo sempre detto così come adesso all'inizio di seduta abbiamo detto che era vergognoso che alle 2.20 non ci fosse il numero legale alle 2.20 eravamo a iniziare la seduta non alle 2 alle 2.20 alle 2.20 certo perché per mettere le monete ci vogliono 20 minuti no ovviamente e piantala lì però di fatto eravate in 11 quando ha proclamato il numero legale come maggioranza punto e basta il dato di fatto è quell'oggettivo conta quanti erano i presenti all'appello e quelli sono presenti allora dovevate invitare il presidente aspettare e iniziare per non avere la frecciatina poi del numero legale perché lo sapete che almeno su questo sono delle piccolezze e vabbè però vi devo ricordare anche che su un bilancio l'abbiamo garantito quindi non potete dirci che giochiamo strumentalmente su queste cose però fa male quando dobbiamo ricordargli che abbiamo garantito anche il numero legale in una notte perché qualcuno si era dimenticato che c'era un numero legale da mantenere durante i bilanci in ogni caso e non siamo qua a fare noi giochini che fareste voi invece sul discorso del numero legale perché poi la politica si fa dai banchi con cose costruttive e criticando e certo l'abbiamo fatto il numero legale è mancato su una allora se glielo devo ricordare il numero legale poi non lo facciamo è mancato su una delibera particolare che era su un appalto con una clausola particolare che era quindi non torniamo su cui guarda caso la procura di Monza è intervenuta per un altro branca sempre di quell'azienda quindi lasciamo perdere non diciamo cose che non c'entrano quindi eh no chissà perché però il numero legale è saltato su quello di liberali è proprio su quello che vi siete accorti che non esisteva più il numero legale secondo il vecchio regolamento quindi avete dovuto porre rimedio su questa questione quello che torneando a qui al discorso la critica oggi non è appunto sulla quadratura dei conti sostanzialmente perché quella è l'atto di indirizzo politica vostra la critica semmai può essere sul fatto che venga inserita una voce di spesa a bilancio di una perdita di prudenziale di 500.000 euro delle farmacie quando ormai l'abbiamo letto da tutte le parti che la perdita è assai maggiore e che quindi anche in questo caso non troverebbe risultanza la copertura sostanziale della perdita che si dovrebbe andare a deliberare tra pochi giorni col nuovo bilancio che ci verrà presentato e quindi già questo non va bene perché allora avreste dovuto fare inserimento dell'effettiva perdita già prevista a bilancio salvo che poi dopo non si inventi qualcos'altro e dopo lo vedremo su questo per come coprire la perdita io credo che la vera lacuna sia stato tutta la presentazione tutto quello che è stato di contorno e le vere critiche che viviamo sono fondamentalmente queste perché è stato questo modo che ci ha portato arrivare a oggi impropriamente ad fare un sabato pomeriggio un assestamento di bilancio a far venire meno diciamo quel valore simbolico di buon governo che tanto vi spesso di cui vi rivendicate ecco io credo che anzi sia venuto proprio a evidenza come non si deve amministrare in questo modo con questo pressacopochismo lasciando all'incertezza interpretativa gli organi eccetera si fa quello che si fa sulla base delle certezze economiche e delle certezze di legge senza cercare altre forme e diversità che poi dopo alla fine si pagano a caro prezzo se non in termini ovviamente di mancati introiti a bilancio o quant'altro perché siamo ancora nei termini per chiudere la partita ma sicuramente a livello mediatico e politico è un prezzo altissimo che viene pagato e sicuramente impropriamente sono stati usati i termini appunto dalla parte dell'assessore alla partita che io credo che vadano invece rovesciati nel senso che le figuracce si fanno quando non si governa bene non quando ci sono degli scollamenti tra il governo centrale e gli enti locali quello a me ormai credo che sia un vulnus di questo Stato che da parecchi anni che si è venuto a creare che si sta riperpotendo a cascata su tutti i tipi di governo su tecnici non tecnici politici di centro-sinistra come quelli di estra e quelli di centro-destra ormai credo che il legislatore nazionale abbia perso la misura diciamo del controllo il dato fondamentale che io continuo a dire è che chi amministra oggi un ente locale deve pensare di fare forza solo sulle sue risorse pensare che lo Stato possa essere in futuro ancora colui che porta gettito per poter continuare a fare certi tipi di spese è praticamente impossibile scordiamocelo quindi il vero buon amministratore è quello che già oggi dovrebbe avuto farlo ieri ma già oggi imposta i suoi bilanci pensando in un regime formalmente di autonomia finanziaria ecco perché io mi arrabbio quando vedo come sono state buttate al vento anni e anni di investimenti anni e anni di valori sulle aziende sulle aziende che facevano parte dell'amministrazione comunale e in particolar modo degli sprechi che sono stati fatti con le farmacie perché quella e su questo io concordo ho visto non so se era il comunicato dei giovani sestesi era che quando si dice che le aziende devono fare profitto pare sia una bestemmia ecco questo forse è un pregiudizio che deve essere superato dal centro-sinistra e soprattutto a sesto San Giovanni deve essere superato fare profitto anche perché se poi l'ha formato in un SRL sicuramente vuol dire che vi optate per il profitto non vuol dire fare profitto se stesso quanto in forma di capitale vuol dire creare quelle risorse finanziarie come ho sempre detto necessarie e utili da investire nel bilancio a sopperire i mancati introiti da parte dello Stato centrale e finalizzate quello sì perché io l'ho sempre detto e lo chiedo per quelle spese sociali per quegli investimenti sociali su cui la collettività su cui deve ricadere a favore di tutta la collettività che poi di questa collettività ne faccia parte e ne beneficino di più quelli meno abbienti rispetto a quelli più abbienti beh questo io credo che sia il prezzo che possono anche tra virgolette impropriamente pagare chi ha avuto la fortuna di stare un pochino meglio rispetto a chi sta un po' meno meglio di altri però sicuramente questo è il vero modello organizzativo di amministrazione di una cosa pubblica è il modello organizzativo e di strutturazione che bisogna dare anche nel predisporre un bilancio al di là della forma giuridica che deve avere questo bilancio perché sicuramente è una forma arcaica quella con cui noi oggi nell'anno del 2013 dobbiamo ancora amministrare questi comuni con queste forme di bilancio anche perché poi hanno sempre delle scappatoie per non far mai risultare i veri saldi e le vere entrate e le vere uscite io credo che anche su questo il legislatore prima o poi spero intervenga a livello nazionale modificando anche questa norma su come si fanno i bilanci degli enti pubblici portando a forme di bilancio più prossime a quelle delle società in modo da consentire a chiunque veramente a chiunque di comprenderli innanzitutto perché i bilanci delle società sono abbastanza comprensibili e anche un profano della materia ma soprattutto di evitare di avere nei residui quelle valvole di sfogo che poi sostanzialmente si traducono in quelle perdite non dichiarate dei bilanci grazie grazie al consigliere la Miranda ha chiesto la parola alla consigliera Teormino ne ha facoltà prego grazie bene io volevo solo fare alcune precisazioni perché mi sembrava giusto in commissione questo tema è stato dibattuto e discusso e volevo ricordare al consigliere la Miranda che nell'intervento fatto dal sindaco di Verona Tosi il sindaco di Verona ha detto anche un'altra cosa che in sua presenza in quella di altri due sindaci se non erro quello di Vicenza e di un altro sindaco veneto aveva ricevuto rassicurazioni personali che invece lo 06 lo Stato lo avrebbe pagato e questo ha detta di ministri di sottosegretari quindi non certo dalla sottoscritta o dal sindaco di Sesto San Giovanni quindi voglio dire il dubbio il dubbio c'era l'ha ripetuto più volte come di solito il sindaco Tosi anche molto chiaro quando parla quindi difficilmente si fraintende l'altra cosa che mi sembra utile dire per chi non c'era in commissione è che in varie cioè in più salse è stato affermato che questo 0,2 che si voleva inserire aumentando insomma dallo 0,4 allo 0,6 non serviva per fare cassa a bilancio però non si voleva neanche rinunciare ad un'eventuale pur remota possibilità di maggiori contributi per il nostro comune quindi questa era la seconda motivazione tutti penso che in commissione adesso obiettivamente eravamo consapevoli che non era una certezza questa cosa però fino a prova contraria Tosi lo ha detto la sera stessa questa possibilità c'era quindi era da stupidi chiudere gli occhi di fronte a questa cosa dirò di più eravamo anche noi così contrari al fatto di aumentare le tasse ai cittadini sestesi che era stato si stava predisponendo non era pronto in quella serata un ordine del giorno in cui tutti quanti ci si impegnava a far sì che non venisse aumentata nessuna tassa ai cittadini sestesi e se non ricordo male però c'erano anche come dire i consiglieri della minoranza non c'era una piena disponibilità a condividere questo documento per il semplice fatto che il documento non era ancora stato scritto però sui principi e sulle logiche a me sembrava di aver intuito che ci potesse essere un accordo a patto che questo sia chiaro non venissero aumentate le tasse ai cittadini punto questo era il punto che anche noi abbiamo ribadito più volte in commissione tanto è vero che quando questa certezza meglio diciamo questo dubbio questa certezza è venuta meno il sindaco che cosa ha fatto ha cambiato idea ha detto bene signori preferisco tornare allo 04 quindi questo dimostra ancora una volta che non era una questione di bilancio diversamente scusate ma saremmo andati avanti a proporre lo 06 avete pazienza però la logica non ha pure un senso l'altra cosa che il consigliere la Miranda dice delle due l'una o la battaglia politica si fa cioè prima dice che non bisogna toccare le tasche dei cittadini esattamente però poi però poi lei ha affermato anche se voi siete convinti della vostra battaglia politica allora siete autorizzati benissimo allora scusate ma infatti quindi noi affermiamo e mi sembra ma però non dovete interrompere abbiate pazienza un atto concreto che la battaglia politica pur condividendola fino alla fine aspettando come dire di poter fare un gesto concreto però non si è voluto sacrificare i cittadini su questa cosa a me sembra di una chiarezza veramente direi proprio per cortesia consigliere Landucci lei non può interrompere per cortesia quando chiederà la parola lei dirà tutto quello che deve dire prego no ma scusate io volevo solo dire che cosa è avvenuto in commissione poi ognuno rimane della propria idea io la rispetto ci mancherebbe altro però questi sono i fatti non so i consiglieri di minoranza c'erano quindi lo possono tranquillamente dire va bene per cortesia io comunque concludo grazie grazie alla consigliere Teormino volevo comunicare che nel frattempo è stato ripristinato il portale quindi funziona regolarmente ha chiesto la parola il consigliere Capone ne ha facoltà prego grazie ha già tolto la parola grazie presidente e buongiorno a tutti io vorrei fare un intervento su due aspetti uno di valutazione tecnica uno di valutazione politica però mi corre obbligo replicare la consigliere Teormino perché ha detto delle inesattezze non confondiamo la disponibilità della minoranza con un'adesione perché il Capigruppo io c'ero c'erano altri tre consiglieri del Capigruppo mi sembra che chi è fino ad oggi intervenuto non l'ho visto né in commissione né al Capigruppo anzi sarebbe bene che ci fosse da parte dell'amministrazione lo faremo noi come lista civica una tabella di presenza dei consiglieri alle commissioni Capigruppo per vedere come effettivamente si lavora e non soltanto fare degli slogan e dei comunicati stampa prendendosi anche immeritetamente dei meriti quando non si lavora l'interno questo è un passaggio perché la maggioranza francamente deve dire le cose come stanno e chiedo che il sindaco dovrebbe dovrebbe confermare questa mia tesi se hai l'accortezza di ascoltarmi perché signor sindaco mi rivolgo a lei vabbè niente sta parlando con il dottor Finazzi perché mi pare che da parte della minoranza pur nel focoso incontro del Capigruppo dell'altro giorno mi sembra che mi hanno dato la massima collaborazione a affrontare il problema quindi insomma collegatore mio prima di dire che ci sono state questo è soltanto una valutazione poi a parte gli interventi di alto profilo che vanno a toccare argomenti di carattere del governo centrale poiché non siamo una lista civica ci interessa di più questioni della sestesità della nostra città quindi vorrei riportare un po' l'argomento al bilancio che stiamo affrontando perché il bilancio di fatto come ho detto più di una volta è reso conto di un'attività di un'amministrazione ed è la faccia della politica sulla città e nella città delle opere fatte nel corso del mandato il bilancio innanzitutto presenza alcuni concetti di carattere aleatorio rispetto invece ad un concetto che dovrebbe prevalere nella stesura di un bilancio di un buon padre di famiglia di una buona amministrazione che invece è quello della concretezza perché sono riportato a tanto titolo di esempio alcune voci quali un recupero di ICI ruolo e violazioni per 813 mila euro un ipotetico recupero tasso occupazione suolo per altri 230 mila euro e il recupero a contravvenzioni per circa 883 mila euro cioè si parla di circa 2 milioni di euro e non è cosa da poco di ipotetici recuperi ecco io credo che invece un bilancio di una città proprio perché deve cercare di realizzare concretizzare delle idee e quindi non soltanto fare delle mere previsioni deve ragionare in termini di certezza e questo non mi pare che risulti dal bilancio presentato con da questa amministrazione nella variazione di bilancio la valutazione invece di carattere politico è è anche sintomatica e collegata col fatto che ci troviamo di sabato quindi con costo ulteriore per l'amministrazione perché comunque si paga gli straordinari ma noi non ci siamo sottratti ad essere presenti anche il sabato abbiamo dato la disponibilità per qualsiasi ora e qualsiasi giorno e credo che dal capigruppo sia emersa innanzitutto una una sfasatura da parte di questa amministrazione perché prima di intraprendere delle battaglie politiche che vanno poi a toccare le tasche dei cittadini andrebbero quantomeni concordate con tutte le forze politiche rivolta so che tu non ami la libertà di pensiero io la penso diversamente quindi finché non mi toglierò la parola in maniera antidemocratica io continuerò a parlare di fatto c'è da parte di questa amministrazione una confusione tra il fare e l'essere noi vorremmo che ci fosse non un'amministrazione ma ci fosse l'amministrazione comunale così come vorremmo che ci fosse non un sindaco ma crediamo che la città abbia bisogno di un sindaco probabilmente il mio intervento non farà piacere in una prima battuta ma penso che il sindaco a Chittò riflettendo e ragionando sulle mie parole sul mio intervento capirà che quando ci sono delle critiche per quanto positive sono comunque critiche leali da parte di un'opposizione perché devono stimolare ad una buona amministrazione noi vorremmo che ci fosse il sindaco non un sindaco perché la città ha bisogno di una guida forte tanto più in un momento di crisi come quello che sta attraversando la nostra città allora io penso che in tema di bilancio l'amministrazione o il sindaco dovrebbe innanzitutto mettere a posto i conti del bilancio senza fare affidamento su quello che li verrà dall'esterno ma magari tagliando gli sprechi tagliando comunque quelle che sono i costi inutili quindi mi riferisco a convegni che sono soltanto autoreferenziali di mera passarella dove la città non presenzia credo che sia una il caso di avere l'amministrazione e il sindaco che si impegni su una politica di abbattimento dei costi dei servizi come innovando il modo di far politica dando più spazio alle associazioni aiutandole perché le associazioni e tutto il mondo culturale che ruota intorno all'associazionismo di fatto vanno a coprire quella parte di servizi che ormai la pubblica amministrazione non è più in grado di garantire e che rappresenta dei costi e vengono fatti con maggior passione proprio perché le persone le fanno in maniera volontaristica quindi ci credono quindi un bilancio che sposti anche delle risorse a questo a questo ambito e poi vengo su altri temi io credo che il sindaco di una città debba avere anche la forza e soprattutto l'amministrazione mi riferivo prima agli sprechi di porre in prima persona questioni che ancora non abbiamo affrontato e che nessuno li tocca come gli buchi e i bilanci che hanno generato delle perdite nelle casse dell'amministrazione del consorzio trasporto pubblico che ancora pendono ancora pende la liquidazione nonostante vada a gravare la città di costi che potrebbero a mio parere con una maggiore analisi magari dedicandoci un attimino più di tempo evitati le farmacie è un tema che noi come lista civica abbiamo posto fin dall'inizio abbiamo chiesto le dimissioni del presidente del cd lo sapete non sto a ripeterlo e questo bilancio cosa mi riporta mi riporta 500 mila euro di trasferimento per coprire le perdite quando il sindaco che ha presenziato a tutte le volte che il dottor finanzi si è presentato in commissione tranne l'ultima dire la verità ha detto che le farmacie non avrebbero generato nessun tipo di costo per la città per i cittadini no non è così diciamo la verità perché mezzo milione vanno a coprire le perdite a parte il fatto poi la questione relativa ai metodi e alle motivazioni che possono portare alla trasformazione delle farmacie in SRL che è stato oggetto poi ultimamente di un dibattito politico e di comunicati però l'amministrazione e il sindaco deve trovare anche il coraggio visto che si parla di spreche di bilancio di rispondere al comunicato dell'Italia dei Valori che ha fatto delle affermazioni importanti per quello che riguarda le perdite generate della farmacie stiamo parlando del bilancio della nostra città non stiamo parlando soltanto di atripe politiche anzi della verità ma aspetterei anche un intervento una replica da parte dei consiglieri della lista civica o del PD non capisco visto che votate Cuperlo verso sesto comunque del consigliere Del consigliere De Noia poi vorrei dire anche che il sindaco no no certo certo rivolta libertà di pensiero quindi un bilancio è toccato anche degravato da una mancata analisi delle perdite che sono state generate da Milano catropoli della Bic che ancora oggi non se ne parla che ancora non se ne vuole parlare nonostante da parte del sindaco ci sia stato l'impegno non mi interessa io non posso ascoltare noi come lista civica grazie al cielo poniamo i problemi in termini concreti va bene voi avete i vostri referenti romani noi abbiamo i referenti nella città il sindaco si è impegnato a porre ad affrontare questo problema non l'abbiamo fatto sono delle perdite e oggi ci troviamo a dover affrontare un bilancio con delle variazioni di milioni di euro perché non siamo stati capaci durante quest'anno di affrontare questi temi concreti questa è la verità di un bilancio di un bilancio di questo tipo essere sindaco significa anche far affruttare tutte le risorse intellettuali della politica sia di quelli della minoranza della maggioranza perché credo che nella politica si debbano mettere da parte quelle che sono le accredini e anche magari le antipatie personali che possono esserci tra soggetti ma noi come diceva un padre nobile della Costituzione visto che spesso il sindaco durante gli interventi pubblici fa riferimento alla Costituzione un padre nobile della nostra Repubblica disse che la politica è l'intelligenza di capire è il cuore grande per amare amare l'interesse pubblico allora io dico che a questo punto noi dovremmo fare veramente un passo in avanti noi spesso come lista civica ci rivolgiamo direttamente al sindaco ma per un motivo molto semplice noi abbiamo un altro senso di rispetto istituzionale noi crediamo che sia per carità non sono ancora qualche minuto mi sembra la prossima volta chiederò raddoppio dei tempi anch'io ma stavo dicendo abbiamo un alto senso di rispetto di rispetto istituzionale quindi io credo che si debbano far fruttare tutte le risorse intellettuali di questa politica di questi consiglieri perché molte volte anche nell'ultima capigruppo ci sono state prese di posizione da parte di consiglieri anziani della minoranza e non solo anche durante le commissioni che a mio parere col semplice fatto di essere da queste parti non sono state valorizzate quindi l'aspetto l'augurio è che il bilancio futuro del 2014 parta con dei presupposti di analisi concreta di quelli che sono i bisogni della città e di utilizzare tutte le idee buone da chiunque provengano anche dalla minoranza grazie grazie volevo solo fare una precisazione in merito allo svolgimento del consiglio comunale sia il giovedì sera che il sabato pomeriggio a livello di costi praticamente è lo stesso ha chiesto la parola il consigliere Di Stefano prego grazie presidente io farò più un'analisi politica di quello che è accaduto che poi si è concluso grazie a Dio con il ritiro della proposta di aumento però rianalizzando un po' quelle che sono state le ultime 72 ore di queste di questa amministrazione ci siamo ritrovati prima un consiglio comunale dove all'ultimo secondo viene convocato viene comunicato che verrà inserito un ordine del giorno inizialmente mi era stato spacciato come una cosa una cosa tecnica nulla di più poi entrando nel merito è stato detto ma no è soltanto una forma di protesta si sottovalutava il tutto fino poi a andare a vedere che leggo pure un comunicato stampa del sindaco dove dice no ma è soltanto una forma di protesta che facciamo soltanto una forma di protesta che facciamo insieme a molti sindaci tra cui il comune di Milano che è uno dei principali che ha iniziato una lotta contro il governo e vuole fare un gesto eclatante e abbiamo deciso di aumentare provocatoriamente senza nessun impatto nei confronti dei cittadini quindi non metteremo mani nel portafoglio dei cittadini aumenteremo provocatoriamente dello 0,2 va beh a me quello che fa un po' riflettere no? è da un lato leggere un comunicato stampa che riporti il falso signor sindaco perché lei lo sapeva benissimo com'era la legge perché già da mercoledì si sapeva la legge il suo comunicato è uscito giovedì mi sembra e la legge era chiara venivano garantite il governo garantiva la copertura del pagato IMU sul 2012 fino a un massimo dello 0,4 l'eccedente chiunque qualsiasi sindaco aveva nella propria amministrazione aumentato l'aliquota era carico poi del comune riscuotero e invece è così rivolta è così è così ma è così basta guardarli anche su internet voi avete detto all'inizio bastava sentire dei riferimenti a noi vicini a Roma benissimo anche noi abbiamo dei riferimenti nella commissione bilancio a Roma li abbiamo sentiti non era così mentevate sapendo di mentire diciamocela tutta dopodiché anzi più che mentevate sapendo di mentire secondo me ci siamo ci siamo fatti portare a spasso da pisapia a questo punto politicamente è un ridimensionamento dell'intera maggioranza perché pisapia ci ha portato veramente a spasso su una sua battaglia che ha avviato da tempo è riuscito a riprendersi anche il comune di Sesto San Giovanni e aggregarlo alla battaglia a 48 ore dalla chiusura della scadenza delle aliquote IMU e questo secondo me è un fatto veramente sconcertante che poi per fortuna si è andato a concludere con il ritiro ma tutta questa situazione poteva essere tranquillamente evitata senza alcuni ritorni negativi che poi sono stati quelli che sono l'annullamento del Consiglio Comunale il riconvocarlo nei tempi e quant'altro Assessore io ho sentito il suo discorso sì piangere miseria scaricando le responsabilità sui continui tagli del governo che ci continua a fare alle autonomie locali è vero certo ma la risposta non può essere aumentiamo le tariffe locali cioè la logica o si entra nel tentare di capire lo so che magari per voi può essere difficile ma tentateci di capirlo ogni tanto la logica del governo se taglia a pioggia qual è? è quella di consentire gradualmente a un buon amministratore di ridimensionare il proprio bilancio e le proprie spese in maniera tale che ci sia un'autonomia finanziaria se poi l'amministratore dice vabbè chi se ne frega il governo taglia io faccio ricadere i tagli sui cittadini allora c'è qualcosa che non quadra nell'amministratore locale non nel governo e questo metodo però vedo che qui a Sesto San Giovanni così come nella Milano di Pisapia la cito perché ormai ci porta spasso politicamente con le sue proteste dove noi ci aggreghiamo a questo punto questo metodo di gestire i problemi di creare i problemi tentando poi non di risolverli ma di gestirli non mi trovo assolutamente in linea e non sposo proprio questo tipo di politica quello che mi auguro che ci sia proprio un'inversione di mentalità nell'approccio di affrontare economicamente tutta la la conduzione la gestione del bilancio del territorio la spesa pubblica deve essere tagliata così come il governo porta dei tagli anche le autonomie locali devono riuscire a ridimensionare quella che è la spesa pubblica altrimenti veramente tutto ricadrà sul portafoglio dei cittadini grazie io grazie no lei consigliere teormine può intervenire al termine del dibattito come relatrice la parola alla consigliera Antonioni si è prenotata non c'è la mia prenotazione la sua prenotazione arriva dopo un attimo consigliera francese dobbiamo spegnere però poi perdo la precedenza dopo dopo tocca a lei dovete spegnerli tutti per favore grazie tutti adesso perché prego consigliere Antonioni si e c'era l'ordine Antonioni Olli Franciosi rivolta perfetto allora lo mantengo io l'ordine la parola alla consigliera Antonioni prego grazie signor presidente allora io penso che parto dall'intervento fatto dalla consigliera Teormino che ha spiegato molto bene sia per quanto riguarda l'assestamento di bilancio e poi per come è andata la commissione in commissione nessuno di noi ha detto che saremo andati ad aumentare dello 0,2 per far ricadere tutto sui cittadini tanto è vero che dopo lunga discussione eravamo usciti dalla commissione con un accordo di quasi tutti di tutti fra maggioranza e minoranza nel fare un ordine del giorno per appunto lavorare insieme sopra l'ordine del giorno per dire usciamo in città diciamo questo vediamo cosa si può fare per la nostra città però nulla deve ricadere sui cittadini oggi mi sento dire che abbiamo un sindaco che non è adeguato un sindaco scellerato assolutamente abbiamo un buon sindaco che per tre giorni ha lavorato ha lavorato con la giunta ha lavorato con i tecnici ha cercato di fare di tutto di fare il possibile per capire cosa si poteva fare al consigliere la miranda volevo dire che è vero che è uscito mercoledì perché io faccio il pago le tasse per la mia società è vero che mercoledì è uscito il decreto dove dice che a partita IVA bisognava pagare per i libri professionisti assolutamente l'IVA andava cioè l'IVA pardon le tasse andavano pagato entro il 2 di dicembre e per le società di capitale entro il 10 di dicembre però non parlava di IMU e non diceva queste cose perché l'articolo ce l'ho anche io sulla mia scrivania no no questo è premesso perché se no qua ci prendiamo abbastanza in giro allora questa è una cosa dopodiché dopodiché io penso che quello che noi sul quale abbiamo lavorato sul quale abbiamo lavorato in questi giorni sia una cosa che dovevamo fare per la nostra città abbiamo visto che non è fattibile abbiamo visto che purtroppo si andava a far pagare ai nostri ai cittadini e abbiamo deciso di non farlo da qui poi dovremo lavorare per il futuro per un futuro per il bilancio del 2014 perché noi non abbiamo aumentato le tasse come fa il sindaco di no non parlo del sindaco di Milano ma a me non interessa cosa fa il sindaco di Pisapia io parlo comunque di Sesto San Giovanni e parlo degli altri sindaci che in questo momento stanno lottando perché penso che comunque noi ci troviamo in questa situazione grazie alle scelte scellerate di anni di governi di anni che ci hanno portato a questo livello e non solo in questo momento ma scelte di anni dopo volevo anche fare una precisazione per quanto riguarda gli sprechi dove quando prima il consigliere Caponi diceva di dare più possibilità alle associazioni io sono d'accordo di dare la possibilità e sono ben contenta che nella città di Sesto San Giovanni ci siano tante associazioni ma mi piacerebbe sapere sui servizi sociali come facciamo a lasciare in mano solo alle associazioni se non abbiamo poi il servizio sociale gli assistenti sociali gli educatori le risorse dove le andiamo a prendere le risorse andiamo a chiedere a casa per casa o dobbiamo avere delle politiche sociali sia governative che locali serie perché se se continuano i governi a portarci via i soldi senza far capire anche alla comunità europea che noi non ce la facciamo più non so come faremo andare avanti ed è questa la scelta di un buon comune dell'ente locale lottare e forse è giusto che in questo momento si esca e lo dico non con gran piacere visto che al governo abbiamo anche il nostro partito quindi quando si parla di buon sindaco io assolutamente difendo il mio sindaco perché il mio sindaco sta lavorando bene e sta cercando di fare di tutto per questa città per quanto riguarda le farmacie avremo modo di poterne parlare lascio ai miei colleghi gli altri interventi grazie 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 alla consigliera Antonioli ha chiesto la parola alla consigliera Franciosi mia facoltà prego grazie presidente vorrei tornare di nuovo brevemente sulla questione dell'ordine del giorno che era stata sollevata dalla consigliera Teormino in commissione quando abbiamo discusso dell'inalzamento dell'aliquota dallo 04 allo 06 dopo una serie di rimpalli tra i diversi commissari a un certo punto sono stata io per prima a dire perché non facciamo un ordine del giorno che sia collegato alla delibera dell'Imu e mi sembra che a quel punto fossimo tutti d'accordo a scrivere l'ordine del giorno è vero anche però che all'indomani mattina quando abbiamo tutti quanti letto l'articolo del Corriere della Sera sul quale si esplicitava che lo 0,1% sarebbe stato a carico del cittadino io mi sono fatta subito avanti ho mandato un sms alla consigliera Antoni Olli consigliando quantomeno da parte nostra di ritirare la delibera perché se quelli erano i presupposti non aveva più senso né discutere la delibera né fare neanche l'ordine del giorno per cui massima condivisione sull'ordine del giorno per come doveva essere costruito in commissione ma poi lo scenario è leggermente cambiato leggermente o pesantemente però poi è cambiato è sul cambiamento che poi non ci siamo trovati d'accordo altrettanto è vero che avremmo fare il consiglio giovedì o oggi pomeriggio è assolutamente identico ma l'argomento che trattiamo stasè oggi pomeriggio è esattamente lo stesso che avremmo dovuto trattare giovedì sarebbe stato sufficiente alla capigruppo ritirare la delibera sul limu e discutere la variazione del bilancio come abbiamo più volte chiesto ai capigruppo giovedì sera detto questo torno al mio intervento che non è un intervento piacevole perché io sono noi io Matteo ma il nostro gruppo è rimasto molto male per l'atteggiamento che è stato tenuto in questi ultimi giorni io spero che non succeda mai più di essere convocati alle 5 per una riunione alle 6 e mezza o alle 4 per una commissione alle 6 e mezza su argomenti così complicati e difficili come quelli che abbiamo trattato sia in commissione che ai capigruppo c'è stata venduta la situazione di emergenza laddove in realtà in emergenza non eravamo perché era chiaro che il nostro bilancio era in equilibrio non abbiamo bisogno di questi 2 milioni e 700 mila euro in più per far quadrare i nostri conti non ce n'è bisogno allora a questo punto a noi sorge spontaneo il dubbio magari invece di quei soldi noi ne abbiamo bisogno per andare a coprire dei buchi di cui ancora non sappiamo l'esistenza e allora ci portiamo avanti a fare una fondocassa per quest'anno o per l'anno prossimo è il caso di iniziare a discutere del bilancio in maniera leggermente più trasparente perché quello che secondo me manca ed è mancato in questi giorni è la trasparenza la trasparenza non nell'esprimere le proprie posizioni o le proprie prese di posizioni nei confronti del governo che è in dubbio che stia lavorando male siamo noi i primi a sostenere che il governo letta i governi prima hanno lavorato male e sicuramente non nell'interesse del cittadino ma bisogna usare più trasparenza nel nostro di bilancio cosa che secondo noi non c'è stata ho trovato quantomeno preoccupante il comunicato stampa che è recentemente uscito dalle fila di sesso nel cuore dove si fa presente che la trasformazione delle farmacie per come è stata impostata potrebbe far risultare tutta la procedura in un atto illegittimo o illegale se questo è vero e di questo chiedo formalmente che ci venga detto qualcosa al riguardo nel più breve tempo possibile non vedo perché noi a bilancio dobbiamo mettere 500.000 euro di residuo che ci potrebbero servire l'anno prossimo per andare a salvare o per iniziare un'azienda dare l'avvio a un'azienda che non può essere creata a meno che a meno che qua mi diciate che quanto scritto nel comunicato stampa di sesto nel cuore non corrisponde a realtà un'altra cosa è certa noi stiamo cercando di ottenere dei soldi da un governo che appunto questi soldi non ce li ha ed è palese che non ce li ha soldi verso i quali altri comuni che si sono comportati in maniera più virtuosa non hanno richiesto di accedere allora io mi domando con quale faccia noi ci rivolgiamo a quei comuni che hanno chiuso in regola i loro bilanci richiedendo dei soldi che in questo caso a noi non spettano perché non ne abbiamo bisogno e gli altri che non lo hanno fatto che si sono appoggiati solo sulle loro forze questo non è corretto la lista dei 600 comuni che ha aumentato l'aliquota le aliquote le hanno aumentate perché quello 0,2% loro se lo sono messi in bilancio perché loro sono senza quei soldi e hanno bisogno di quei soldi la nostra è una lotta politica ma dobbiamo anche pensare a chi questa lotta politica non l'ha fatta per virtuosismo interno questa è una cosa sulla quale secondo me dovremmo minimamente soffermarci perché va bene che noi facciamo questa lotta perché è giusto poter permettere alla città di Sesto di accedere a dei fondi in più che magari lo Stato ha ma che è palese che lo Stato non ha gente siamo veramente cioè se il quadro politico non cambia e queste sono le condizioni con le quali apriamo il 2014 ma non è che ha un problema degli enti locali secondo me è un problema su tutta l'Italia e dobbiamo cambiare e non possiamo andare a recuperare soldi laddove i soldi non ci sono e quando invece altri comuni in maniera responsabile non fanno queste manovre io questo non lo trovo corretto è un atteggiamento che troviamo completamente ingiusto e poco corretto nei confronti degli altri grazie grazie la consigliere franzosa ha chiesto la parola il consigliere rivolto con il raddoppio dei tempi prego funziona grazie presidente io cercherò di non usare il tempo è solo per precauzione resto un po' basito nel senso che questa vicenda viene usata in termini abbondantemente strumentali secondo me e io credo che le liste civiche in particolar modo ma ma i partiti che non stanno al governo perdono un'occasione perché il consigliere Di Stefano può divertirsi e dire che noi siamo a rimorchio di Pisapia direi che proprio questa è una di quelle cose che non si può dire credo che Pisapia come dire sia abbastanza ancora seccato con sesso San Giovanni quindi dire che noi siamo a rimorchio di Pisapia è una stupidaggine abbastanza colossale sapendo soprattutto che questa iniziativa politica la portano avanti il presidente dell'Anci Fontana il presidente dell'Anci Nazionale Fassino Pizzarotti consiglierà franciosi le notifico che il comune di Parma sta partecipando a questa sorta di iniziativa politica di pressione è una pressione è l'idea che stava alla base di questa cosa non importa ma le sto dicendo che le sto dicendo allora lei sta dando un giudizio sul bilancio di Pizzarotti va bene assumo che assù consiglierà franciosi lei non è stata lei non può interrompere capito non stiamo mica capito si potrà criticare anche Pizzarotti o Pizzarotti è sempre da critiche Pizzarotti ha partecipato lo faccio per dire che in questa cosa non c'è un colore ci sono dei comuni in grave difficoltà in questo paese in grave difficoltà i comuni d'Italia sono in grave difficoltà e una parte di questi comuni hanno promosso questa azione punto poi voi dovete dirci e qualche d'uno l'ha detto molto chiaramente perché l'ha detto il consigliere di Stefano sono sicuro che lo dirà la consigliere Landucci perché gli va riconosciuto con tutta onestà che lei lo sostiene da tempo che la spesa pubblica va dei comuni va tagliata cioè bisogna dire ai cittadini la spesa pubblica del comune di Sesto va tagliata io credo che la spesa pubblica italiana non va tagliata io credo che la spesa pubblica italiana va riqualificata che è altra cosa che è un'altra cosa e che credo che invece per esempio restituire più fondi e più soldi ai comuni sarebbe un'azione fondamentale per rimettere in pista l'economia del paese consigliere Landucci no io la richiamo al regolamento questo questo è un richiamo ufficiale per cortesia per cortesia la sto avvisando questo è un richiamo vanno tolti per esempio dai ministeri perché negli ultimi un attimo consigliere consigliere rivolta un attimo un attimo per cortesia consigliere Landucci consigliere Landucci questo è un richiamo ufficiale va bene grazie allora per cortesia andiamo avanti con la discussione però io il tempo lo recupero no è che dopo devo scendere a pagare ancora il posteggio verrei richiamato ancora da consigliere la Miranda quindi non lo recupero per essere molto chiari io ho un'idea di dove va recuperato per esempio vanno tolti dai ministeri perché negli ultimi otto anni i ministeri il governo centrale ha assorbito molte più risorse di quello che hanno assorbito gli enti locali e allora siccome bisogna anche sapere che negli ultimi anni qualche d'uno ha governato magari forse è lecito che in un consiglio comunale partiti politici diversi esprimano delle critiche a chi ha governato in questi ultimi otto anni in questo paese facendo decollare il debito pubblico perché quando ha smesso il governo Prodi era a un certo livello poi che è decollato e una serie di considerazioni il bilancio consigliere la Miranda è politico non è vero che il bilancio non è politico anzi è l'atto più politico di un'amministrazione comunale adesso non diciamo perché se no facciamo gli amministratori di condominio dove scegliamo di spendere i soldi su che cosa scegliamo di investire e anche quando sbagliamo è sbagliata politica è politica sbagliata quando si sbaglia ed è politica giusta quando si fa le cose ma è sempre politica questa bagianata per cui il bilancio non è politica ma raccontiamola qualche di un altro è profondamente è il fatto più politico si decide come i soldi che i cittadini versano allo Stato vengono spesi così come la scelta era di fare una battaglia politica ed è sempre stato chiaro che non sarebbe gravata sulle tasche dei cittadini quindi dire il sindaco Chittò fa una battaglia politica con i soldi dei cittadini dico è sbagliato ma è come dire voler insinuare e dire una cosa falsa perché se si dice che in commissione eravamo tutti d'accordo ripeteva giustamente la consigliera Franciosi che eravamo tutti d'accordo se non fosse gravato sulle tasche dei cittadini poi non si può uscire dicendo la sindaca fa battaglia politica con i soldi dei cittadini perché sia in malafede profondamente in malafede e i comunicati di stampa non mi riferisco a lei consigliera Franciosi non mi riferisco a lei chi l'ha detto l'ha detto in malafede se l'avete detto non lo so ho letto il vostro lunghissimo comunicato in parte me lo ricordo in parte no dopodiché cerchiamo di capirci però perché se questa cosa ha un senso e un significato e la battaglia riguarda i comuni io voglio sapere voi avete voi siete dalla parte del governo centrale che continua a non restituire risorse sul territorio perfetto lo sappiamo e lo diremo ai cittadini il massimo il gran numero dei sindaci sono sindaci di sinistra è vero d'altronde controlliamo il massimo numero delle città in questo paese forse perché chi ha governato prima negli anni precedenti a destra ha governato così male che anche in roccaforti della destra la sinistra ha vinto le elezioni per esempio giusto per per citare delle cose dopodiché sono state dette un po' di cose strane vorrei ritornare però mi scusi consigliere la Miranda lei ha detto una cosa abbastanza grave voi avete fatto mancare il numero legale quella volta all'inizio legislatura secondo consiglio tanto per dire che qui qualcuno continua a dire noi siamo collaborativi al secondo consiglio comunale ha fatto mancare il numero legale appellandosi a una regola del vecchio consiglio comunale che non era stato modificato se questa è la disponibilità chissà quando invece non ci vorrete bene lei ha detto una cosa molto grave e spero che lei di questa cosa abbia come dire notificato la procura della repubblica perché lei ha detto che voi avete fatto mancare il numero legale e vorrei che ne fossero consci tutti i consigli del centro-destra perché quell'azienda a cui sarebbe stato destinato l'appalto è stata già anche poi oggetto di indagine della procura della repubblica quindi voi sapevate già che andava spero che siate andati in procura della repubblica tutti quanti voi a dire sappiamo che la gara è pilotata e quindi quella gara va sospesa perché è anche finito il tempo di continuare a dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra io credo che invece quella sera il numero legale è stato fatto mancare perché avete voluto fare una prova di forza con la maggioranza ci sta è legittimo però la cosa che ha detto il consigliere della milanda vi ha tirato dentro tutti insieme e siete tutti responsabili del fatto che avete fatto o lo smentite mancare il numero legale perché si sapeva che la gara era truccata spero che siate consapevoli di queste cose che quindi abbiate fatto un beh l'ha detto lei e registrà e ha registrà e no 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 perché non è che si tirano fuori le cose così c'è una registrazione c'è una registrazione c'è una registrazione e dopo andiamo a sentire lo sentirà e chiamerà il consigliere la milanda e magari chiamerà e no perché voi chiamate in causa il procuro della repubblica corte dei conti ogni due minuti se lo facciamo noi non fa bene e no c'entra c'entra perché è stato detto in un consiglio comunale e quindi lo riprendo ascolti lei lascia perdere cioè voglio dire qua si è parlato di tutto cioè il consigliere Di Stefano è venuto a farci la morale su come si spendono i soldi dell'ente locale ascolti consigliere Di Stefano lasci perdere ma lasci proprio perdere voglio dire lasci perdere ci parli lei del BIC ci parli lei del BIC cioè uno che viene qui a fare la morale su come si spendono i soldi del pubblico quando è stato amministratore del BIC che ha fallito e che ha creato un buco nelle casse dei comuni di cui erano soci beh insomma ci vuole una bella faccia tolla ci vuole una bella faccia tosta ci vuole una bella faccia tosta ci vuole una bella faccia tosta lascia perdere non tirare in vai lascia perdere a parte che a parte che bisognerebbe sempre capire lei informa che il suo partito mi sembra di aver capito che non ho capito qual è il vostro gruppo è andata all'opposizione quindi anche qui forse ma per cortesia stiamo all'oggetto della discussione per cortesia Presidente un giorno bisognerà anche far chiarezza perché lì non si capisce quali sono i partiti allora noi abbiamo fatto un'operazione noi abbiamo fatto un'operazione politica abbiamo provato non è affatto vero come dice il consigliere la Miranda il consigliere la Miranda sa quando dice una cosa vera o no che il mercoledì era tutto chiaro perché non è vero perché lei ha detto che il mercoledì era chiaro che dallo 04 allo 06 l'ha detto anche di Stefano dallo 06 ce l'avrebbero messo i cittadini ce l'avrebbero messo i cittadini non è vero così no dallo 04 allo 06 il consigliere la Miranda ha detto era chiaro che dallo 04 allo 06 ce l'avrebbero messo i cittadini l'unica cosa che è chiara a oggi è che non sarà così quindi mercoledì dichiara non c'era proprio un tubo non c'era proprio niente non è vero oggi oggi hanno spostato a 60 e a 40 e secondo me prima della lei si ho capito lei sapeva tutto ha fatto 7 scenari commissione e non se ne è verificato nessuno di quelli neanche quello nostro sicuramente neanche quello nostro ma anche lei la sfera di cristallo non ce l'ha non ce l'ha non le appartiene nella sfera di cristallo quindi però consigliere Landucci per cortesia lei ha chiesto c'è una crisi di gelosia poi consigliere Landucci dopo dovrà intervenire lei ha il raddoppio dei tetti comunque è chiaro che mercoledì io vado a qui ma vado a qui se non fossi conto di te mercoledì non era chiaro nulla e io sono pronto qui con voi a scommettere e io sono pronto qui a scommettere che finita tutto l'iter della legge di stabilità finito tutto quanto ci sarà qualche cosa che ritorna in più ai comuni che hanno alzato a 0,6 e noi saremo rimasti fregati dalla nostra coerenza no no è certo perché se venivamo e la facevamo ci attaccavate lo stesso non è che siamo stupidi allora siamo sicuri di quell'operazione che dopodiché la consigliera Franciosi dovrebbe sapere mi scusi glielo dico visto che lei non ha partecipato ai bilanci scorsi che da un punto di vista della virtuosità del bilancio sestese è certificato da moltissimi anni è uno dei bilanci più virtuosi dopodiché io non mi sento di dire ai cittadini che siccome il mio comune è virtuoso e ci sono dei soldi a disposizione che forse noi possiamo intascare non li prendiamo perché li lasciamo ai comuni meno virtuosi no mi spiace perché c'è già un patto di solidarietà un contributo di solidarietà folle in questa legge di stabilità ma i cittadini mi prendono a badirate se sanno che io non ho fatto tutto fino in fondo per recuperare dei trasferimenti dallo Stato mica gli posso raccontare che ho fatto un'altra operazione perché sono amica del comune di San Genesio o di Sinsalabin non lo so ma adesso non possiamo raccontarci le favole noi siamo qui ad amministrare e siamo stati eletti dai cittadini se stesi e abbiamo il dovere di recuperare il maggior numero quantità di risorse possibile ci abbiamo provato è durata tre giorni è finita mi sembra che possiamo cucinarci tutto il pomeriggio ma non è stato niente di così come dire tremendo tanto più vi informo e forse questo potremo decidere per il futuro che probabilmente invece le ore dei dipendenti comunali sabato pomeriggio costano addirittura meno della sera quindi secondo me potremmo cominciare a convocare i consigli comunali tutti i sabati pomeriggio grazie al consigliere rivolta ha chiesto la parola la consigliere Landucci con il raddoppio dei tempi prego grazie presidente io credo che sia necessario ripercorrere le tappe perché io c'ero in tutte le tappe perché qui ci sono persone personaggi che quando non sono presenti quindi quando non partecipano a nessuna decisione e quindi non vengono a conoscenza di niente poi però sanno molto bene sfruttare i meriti altrui e utilizzare penne del pavone che non sono propri quindi cerchiamo di ripercorrere le tappe la prima tappa è la telefonata del presidente Fabiano Vavasori della prima commissione all'inizio del pomeriggio di mercoledì in cui no prima addirittura il giorno prima aveva annunciato che sarebbe stata giunta una delibera sulle luminarie una cosa stupidaggente perché ho detto beh allora non credo che verrà questa commissione non riesco invece mercoledì pomeriggio ma io devo sempre insospettirmi quando ci sono queste cose apparentemente inutili no telefona invece il primo pomeriggio e mi dice ah Franca sai dobbiamo aggiungere una delibera ma saldo zero non cambia nulla aumentiamo dello zero due l'imus la prima casa e sì perché così facciamo una battaglia saldo più saldo meno ci ricoprono tutti come fa Pisa dico ma no scusi è un discorso che non ha senso però vengo sicuramente in commissione in commissione c'è stato fatto il discorso della battaglia politica alla presenza dei tecnici dove io poi sono stata accusata dal consigliere Romaniello di essere al limite della maleducazione per come trattavo i tecnici devo dire che secondo me io mi limitavo a chiedere spiegazioni ma al limite della maleducazione è trattare i tecnici come sono stati trattati in questi giorni cioè usarli a puro fine politico i tecnici non sono dei politici i tecnici sono dei funzionari che sono pagati con i soldi di tutti e non devono essere utilizzati per costruire castelli di carta fragilissimi fragilissimi per rispondere a battaglie politiche questo lo fanno i funzionari di partito non i funzionari e i dirigenti del comune questo è un utilizzo al limite della maleducazione dei funzionari con tutto il rispetto che io ho per la dottoressa Fiori e per la dottoressa che credo abbiano passato tre giorni di inferno a cercare soluzioni più o meno reali o realistiche a fronte di nessuna necessità perché erano riusciti a far quadrare perfettamente il nostro bilancio qui non sono io che tratto male io ho molto rispetto delle competenze ho grande rispetto delle competenze e soprattutto ho grande rispetto delle funzioni tecniche io credo che qui l'errore che ogni tanto si fa è di confondere la politica con l'amministrazione i funzionari non sono membri della parte politica di questa amministrazione e quindi vanno trattati con come dire con il rispetto il distacco dovuto a un professionista e questo questa volta secondo me non è stato fatto questa è una mia opinione sarebbe come se io mi chiamassi il ministro dell'università e mi chiedesse di come dire di sposare la sua linea politica io faccio il professionista nel ministero non faccio la GITPROP di nessuno chiaro? quindi questo per chiarire il mio rispetto profondo per le competenze di chi si occupa del bilancio in questa città perché io sono rimasta molto offesa da quello che ha detto il consigliere Romaniello io non tratto mai nessuno di quelli che non fanno come l'educazione di quelli che qui lavorano perché io ho grande rispetto del lavoro e sfido chiunque a dire che io in dieci anni ho trattato male dall'ultimo uscere alla dottoressa Orzetti sfido chiunque a dire una cosa del genere credo di essere la prima a salutare a essere gentile collaborativa perché io rispetto il lavoro della gente e non ci provi più perché la denuncio ma sul serio ma sul serio non ci provi più a dire che io tratto al limite della maleducazione della gente che lavora perché io non lo faccio mai 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 sia chiaro eh politicamente possiamo dirci quello che ci pare ma umanamente no questo perché volevo che rimanesse registrato perché ci sono delle cose che non si devono fare e non si devono dire mai questo vale per tutti i compiti e per tutte le competenze in qualunque ambiente di lavoro alla fine quello che io avevo detto gli scenari che io avevo detto erano che l'unica cosa sicura era che lo Stato avrebbe coperto lo 0-4 lo 0-2 sicura non c'era nessuna sicurezza della copertura e io ho anche detto se si ammoscano del giochino vedrete che ce la fanno pagare e non si sapeva nulla ho detto esattamente così non lo sapevo è chiaro che facevo degli scenari naturalmente io ho condiviso l'idea di dire io ho detto che secondo me non bisognava fare nulla perché il nostro bilancio era quadrato e io credo che sia necessaria la lealtà istituzionale io detesto questo modo di dire noi siamo stati eletti ai cittadini di Sesto allora devo recuperare tutte le risorse andandola a prendere a qualcun altro evidentemente l'assessore Montrasio al telefono mi ha detto che i soldi della copertura non erano presi dalle tasche dei cittadini ma venivano dalle banche si può essere ingenui ma non fino a questo punto ci lamentiamo tutti che le banche non danno i figli alle aziende e se noi togliamo ulteriori risorse per pagare coperture di questo tipo crediamo che i nostri imprenditori saranno contenti le banche saranno più amichevoli le banche da chi li prendono i soldi se non ancora dai contribuenti italiani ma forse questo non è chiaro a qualcuno cioè tutti bisogna pensare che esistano dei piccoli le piccole buchette in cui scavando si tirano fuori i soldi no? allora è chiaro che lo Stato non ha risorse è chiaro che lo Stato fa fatica è chiaro che lo Stato ci sta ammazzando di tasso io credo che la lealtà istituzionale vorrebbe che gli enti locali e gli enti centrali collaborassero per il bene dei contribuenti e che lo scopo fosse quello di far pagare il meno possibile perché quando rivolta dice tagliamo i ministeri va bene tagliamo il ministero dell'istruzione è più costoso di tutti tagliamo il ministero della giustizia sono tutti lì che piangono che la giustizia hanno chiuso le sedi dei tribunali non c'è tagliamo il ministero dei beni culturali tagliamo il ministero dell'agricoltura ma scusate ma stiamo scherzando tagliamo il ministero dell'interno così ci tolgo la polizia che diciamo sempre che non ha abbastanza benzina gli ne diamo ancora meno è chiaro che ogni euro in più che va al comune sarà un euro in meno a qualcun altro e viceversa non potremmo arrivare a un patto invece che al patto di stabilità finanziaria ha un patto di lealtà istituzionale un patto di lealtà per cui noi chiediamo se abbiamo bisogno ma non possiamo chiedere se non abbiamo bisogno è chiaro che Pisa Pia secondo me è contento ed è contento anche Tosi o chi altro ha fatto questo 0-2 probabilmente anche Pizzarotti non lo sapevo ma sarà così è chiaro che questi hanno bisogno di quei milioni di euro che comunque avrebbero dovuto prendere i cittadini se il 60% glielo dà lo Stato e il 40% ai cittadini comunque i loro cittadini hanno sempre risparmiato ma se noi non avevamo bisogno veramente mi sembriamo come gli studenti universitari che si autocertificano di avere meno soldi per pagare meno tasse insomma se noi non ne abbiamo bisogno perché dobbiamo chiedere un trasferimento ulteriore cioè mi pare veramente una follia questa qui una follia poi è chiaro che si potrebbe spendere tutto perché i soldi non bastano mai volendo d'altra parte qui si parla molto dei servizi del comune ci sono dei servizi però ci sono molti servizi anche statali e la scuola pubblica è un servizio statale ed è pagata esclusivamente con i soldi del ministero insomma anche qui non possiamo chiedere tutto il contrario di tutto anzi direi che i tre quarti dei servizi che noi usiamo non dipendono dal comune perché i due servizi essenziali che usiamo che sono la scuola e la sanità dipendono zero dal comune che il comune sia ricco povero o comunque scuola e sanità non dipendono dal comune ma anche la difesa non dipende dal comune la sicurezza i carabinieri la polizia tutto qua la giustizia se vogliamo andare in un tribunale quindi anche lì cerchiamo di creare un minimo di lealtà istituzionale di lealtà istituzionale io ho trovato veramente drammatica perché poi naturalmente ci siamo lasciati mercoledì sera in cui io mi sono adeguata all'idea dell'ordine del giorno e la mattina dopo ho visto l'articolo e ho immediatamente telefonato alla consigliera Antonioni chiedendo di ritirare la delira e di tornare quella precedente non ho sentito nulla fino al pomeriggio del giovedì quando mi ha telefonato l'assessore Montrasio lasciandomi basita erano le 5 grosso modo le 4 e mezzo dicendomi che loro praticamente ritiravano la delira quel pomeriggio ma non volevano fare il consiglio comunale la sera perché volevano aspettare il sabato nell'attesa di non si sa bene che cosa perché magari si riuscivano a lucrare a lucrare delle risorse per il comune io ho detto che mi sembrava una posizione veramente inconcepibile inconcepibile cosa che ho ribadito chiaramente chiaramente nella capigruppo di giovedì sera qui erano presenti il sindaco e anche l'assessore Montrasio in cui ho detto insieme alla collega Franciosi insieme alla collega Iose a Caponi che secondo noi bisognava fare giovedì sera la variazione di bilancio che già era stata preparata e chiudere la questione se poi fosse stato possibile prorogare questo no questo no perché magari se no ci danno la possibilità di prendere ma in ogni caso è evidente che vorranno un contributo dai cittadini che sia il 60 il 40 il 30 il 20 non lo so ma anche se restasse l'1% è chiaro che il Comune ha voluto dare il Comune scusate lo Stato ha voluto dare un segnale il segnale è attenzione non possiamo aumentare le tasse sperando sempre in una copertura è un segnale no è un segnale evidente proprio per rispondere a questa famosa battaglia politica in cui si dice vi smascheriamo il vostro gioco voi non volete quei soldi per lucrare risorse oltretutto scusate ma mi è sembrato anche molto scorretto quello che è stato fatto oggi cioè che tornati alla variazione di bilancio io non ho detto nulla perché non ho voluto fare polemiche con il Presidente quando si è detto si torna alla vecchia variazione allora facciamo parlare come relatore la consigliera Teormino è chiaro che io avevo chiesto di essere relatore di minoranza con la nuova delibera è chiaro che sarebbe stato cortesia istituzionale mantenere questa relazione di minoranza che non avevamo fatto l'altro mercoledì perché non era necessaria perché la cosa non c'era nessuna battaglia politica è chiaro che come sempre le cortesie istituzionali si sono dimenticate le buone maniere sono diventate un optional in questo comune però va bene non è un problema glielo ho detto adesso ho chiesto il raddoppio dei tempi non c'è problema però quello che io vorrei dire quello che vorrei dire è che veramente al di là dei costi dei comuni delle province delle regioni dello Stato quello che a me sembra mancare è il rispetto per le tasche dei cittadini che sono molto provate sono molto provate in questo periodo e la maggioranza dei cittadini che non è che non vive di sussidi sociali ritiene di essere fin troppo collaborativa con tutta questa pletora di enti che non ce n'è uno non ce n'è uno che dica bisogna dimagrire ma tutti dicono i comuni no le province le province noi noi no le province no le regioni le regioni no noi le regioni no lo Stato lo Stato no i comuni allora alla fine di questo bel discorzino gli unici che pagano sempre siamo noi siamo noi gli unici che pagano sempre siamo noi tra un balsello e l'altro non è più possibile sopravvivere io vorrei capire cosa ci costano questi mitici servizi perché se un mitico servizio mi costa dieci volte quello che dovrebbe costare è uno spreco consigliere rivolta e consigliere Antonioni chiariamo se tenere il bambino al nido mi costa il triplo di quanto costerebbe un nido privato vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nell'organizzazione questo è lo spreco se un bambino io le do l'esempio perché io adesso l'ho imparato e sono ancora senza parole con un'ise di 22.000 euro che non è un'ise da ricchi non è un'ise da ricchi tutte le famiglie italiane in cui lavorano madre e padre ma lavoro modesto eh lavoro modesto lo raggiungono anche perché magari hanno due risparmi hanno la casa anche perché sapete che nell'ise forse voi non lo sapete per fare l'ise se tu hai un deposito in banca che dà interesse zero si calcola un interesse anno del 6 per 100 lo sapeva allora glielo dico io perché mio figlio l'ha fatto allora l'ise se tu dici che hai 20.000 20.000 euro in banca che ti danno interesse zero l'ise ti carica un interesse del 6% all'anno che è una rapina a mano armata ma è così allora con un'ise di 21.000 euro familiare e portando il bambino al nido dalle 8 e mezzo a mezzogiorno e mezzo cioè solo 4 ore si pagano 500 euro al mese 500 chiaramente come dire un costo cosa costa tanto ma cosa dà il servizio guardi da così tanto da così tanto che se il bambino si ammala bisogna pagare anche la babysitter ho capito beh questo è chiaro no allora il problema va bene allora voi siete convinti che sia giusto un costo di questo genere che questo servizio è un costo questo è questo che rende insostenibili i costi questo che rende insostenibili i costi e lo saranno sempre di più perché infatti quest'anno avevo letto che sono sono calate le iscrizioni perché la gente non ce la fa a sostenerle però rimanono i costi però i costi rimangono ma è possibile che uno cioè qui io non so chi l'ha detto prima ma forse il consigliere di Stefano non mi ricordo è chiaro che come anche la Miranda le risorse non ce ne saranno di più perché non si possono prendere ancora dalle tasche dei cittadini non se ne può noi lavoriamo fino a luglio per pagare tasse fino a luglio vuol dire che il nostro lavoro da gennaio a luglio si azzera per pagare la struttura ma capite che una struttura che costa così tanto non funziona bene non può costare più del 50% di quello che dà perché certo non può dare di più e noto che questo servizio del comune ripeto non comporta due servizi essenziali come la scuola e la sanità che non sono affatto a carico del comune e io ripeto come ha detto il consigliere rivolta tagliamo il ministero della pubblica istruzione dell'università tagliamo il ministero dei beni culturali tagliamo il ministero dell'agricoltura quale mi dica lei quale ministero forse va bene chiudiamo il ministero della difesa salvando però forse i carabinieri almeno i carabinieri li salviamo non salviamo manco loro perché i carabinieri sono il ministero della difesa allora io credo davvero che questa che l'essere qui oggi quando avremmo potuto chiudere tranquillamente giovedì sera quando si era capito chiaramente che il governo avrebbe imposto una compartecipazione ai cittadini sia stato un atto di protervia dell'amministrazione noi abbiamo chiesto alla capigruppo esplicitamente di fare il consiglio comunale giovedì sera tornando alla delibera prevista prima cioè quello che stiamo facendo adesso e questo non è stato fatto perché evidentemente il sindaco sperava comunque in una marcia indietro del tutto improvabile si ho capito ma ripeto nel momento e allora vuol dire che si è stata fatta mettere in mezzo da quelli che di quei soldi avevano bisogno e che hanno avuto bisogno che hanno chiesto la sua copertura per avere le spalle più grosse questo è il discorso questo è il discorso e non bisogna andare a giocare qui è giocare sulla pelle dei cittadini perché il rischio era il rischio era che una volta che tu hai fatto quella modifica che te la imponeva e avrebbero fatto bene secondo me avrebbero fatto bene a imporcelo perché voi avreste dovuto giustamente spiegare ai cittadini perché le risorse ne avevate di più di risorse ne avevate di più se le risorse erano così necessarie era giusto averle comunque io credo davvero che questa sia stata una brutta pagina in cui questa amministrazione ha sfruttato le capacità tecniche di funzionari e dirigenti per una strumentalizzazione politica davvero meschina priva di qualunque lealtà istituzionale e in questo paese se non la smettiamo di credere come dice Rivolta che l'importante è lucrare il massimo delle risorse in qualunque posto siamo non andiamo da nessuna parte non andiamo da nessuna perché quello che lei dice per il comune lo dicono per le province lo dicono per le regioni lo dicono per i ministeri e la vittima di questo è soltanto il cittadino dobbiamo imparare invece a dire dobbiamo lucrare il minimo per lasciare il massimo ai nostri concittadini questo dovremmo imparare a dire perché ogni euro che noi prendiamo di tasse lo togliamo alla disponibilità dei nostri cittadini questo dovremmo dire ricchi o poveri che siano ricchi o poveri che siano questo però ve lo dimenticate sempre tutti questa è la vera differenza di posizione politica grazie grazie alla consigliera Landucci ha chiesto la parola il consigliere De Noia ne ha facoltà prego ok ci siamo grazie presidente ma a me il percorso che è stato fatto in questi giorni sia in commissione che nell'HP Gruppo è sembrato abbastanza chiaro effettivamente in questi anni a me sarebbe piaciuto che soprattutto il governo centrale tutta quell'eticità ce l'avesse avuta quando ha cominciato a tagliare ma ha cominciato a tagliare a tutti il governo centrale non si è chiesto chi aveva fatto bene il suo mestiere chi non l'aveva fatto o se lo aveva fatto a metà o bene o male ha tagliato a tutti quanti a tutti quanti alla stessa maniera è etico questo? questo è etico meritocratico? no perché chi aveva fatto il suo mestiere si è trovato nella difficoltà uguale a quelli che il loro mestiere non l'avevano fatto quindi il problema cos'è? sì il sindaco Chittone in questi giorni ha fatto tutto molto velocemente ha lavorato troppo probabilmente avrebbe dovuto effettivamente prendere e dire ma no ma lasciamo perdere lasciare perdere 2 milioni e 700 mila euro che ci doveva eh sì ci dovevano essere quei 2 milioni e 700 mila euro potevano esserci potevano entrare nelle casse di questo comune che ha sempre lavorato bene e che poteva avere delle risorse in più era giusto era una battaglia che andava fatta poi io non posso esimermi perché effettivamente eh sento gli interventi sul bilancio poi interviene il consigliere Caponi e si apre la fiera della demagogia incredibile la fiera la tebellina delle presenze consigliere Caponi lei quando è in commissione le prendono la presenza perché se no non le potrebbero pagare il gettone sempre vengono prese le presenze sia in consiglio comunale che in commissione la tabellina delle presenze un'altra cosa poi lei faceva c'è il non comunicato stampa che era il comunicato stampa emesso dall'Italia dei Valori poi qualcun altro faceva faceva riferimento al comunicato stampa emesso da un'altra lista civica beh signore sta cosa qui dei comunicati stampa che poi tra l'altro più che comunicati stampa siano le lettere ai fidanzati cioè lunghe chilometriche dove la gente si mette la legge attacca questo attacca quell'altro questa cosa qui che i cittadini non ne possono e questa è una cosa di cui i cittadini non ne possono più perché questo qua è un falso farsi carico dei problemi dei cittadini questa cosa qui e questo viene fatto spesso viene fatto con le farmacie viene fatto con la polizia locale viene fatto in molte per molti problemi di questa città viene fatto semplicemente per portarsi a casa tanto così in più di supporto semplicemente quello le bande ruole poi consigliere Caponi lo sanno anche i muri ma lei non è mai stato iscritto a nessun partito affidiamola quindi a questo punto io volevo concludere non voglio rubare altro tempo perché so che ci sono anche altri consiglieri che devono parlare però mi sembrava giusto ricostruire anche quella che è stata la riunione dei capigruppo della commissione dove siamo usciti dicendo che probabilmente avremmo concordato tutti quanti un comunicato stampa ed era chiaro a tutti era chiaro a tutti che non c'era di attenzione e non avremmo messo le mani nelle tasche dei cittadini perché questo era l'intento della maggioranza ben spiegato a tutti quanti e condiviso anche con l'opposizione dopodiché il giorno dopo escono con i comunicati stampa facciamo uscire i comunicati stampa noi ci occupiamo di amministrare questa città i comunicati stampa le letterine facciamole mandare mandateli tutti per cortesia vado avanti consigliere De Noia consigliere De Noia vado avanti momento di folklore finito bene vestiamo all'oggetto per favore il pubblico per cortesia vado avanti niente brevemente termino se riesco se è finito il momento di folklore voglio semplicemente dire visto che non lo faccio ovviamente per il consigliere Caponi che mi può fare tutte le richieste che vuole ma io intervengo e giustifico se devo giustificare ma questo non è proprio il caso e argomento se devo argomentare anche la mia storia politica all'interno di questa in questa città semplicemente le richieste che sono state fatte se sono state fatte da Italia dei Valori non sono state né condivise con me né col gruppo consigliare e tanto è vero che lei dovrebbe sapere per coerenza che quando queste cose sono avvenute prima io ero anche dimissionario quindi c'era un commissario qua stesso San Giovanni dell'Italia dei Valori poi loro possono dire quello che vogliono perché escono come lei come gli altri partiti escono e dicono quello che vogliono ma che lei chieda a me di relazionare rispetto al comunicato stampa di un partito di cui non faccio più parte che riguarda magari cose passate guarda solo un piccolo appunto su questa cosa qui si faceva riferimento alla proposta di mettere come presidente delle farmacie l'ex direttore generale della sanità in Lombardia se non sbaglio era Lucchina il mio piccolo appunto che feci al tempo perché è l'unica cosa mi chiesono mi chiedono il consigliere di noi però deve essere più pertinente all'oggetto andiamo sul binario giusto no perché c'è un'urgenza di democrazia c'è un'urgenza di democrazia volevo partecipare anche io semplicemente il mio piccolo appunto fu questo forse non è il caso perché in quel momento quel personaggio io non so come sia andato a finire la vicenda era indagato grazie grazie no volevo dire che gli interventi dei consiglieri sono dieci minuti non cinque minuti il consigliere De Noia ha consumato cinque minuti e trenta secondi ha chiesto la parola il consigliere Romaniello che ha chiesto il raddoppio no c'è nostra prima hai andato avanti allora mi ris allora prendo nota del tengo conto del manuale che ho fatto io la parola al consigliere è nostra prego ok io aspettavo anche adesso non so la sequenza con cui il Presidente aveva la prenotazione degli interventi innanzitutto buon pomeriggio a tutti pomeriggio anziché serata perché è inusuale trovarci il sabato pomeriggio ma gli eventi ci hanno portato a radunarci il sabato pomeriggio annuncio che non ho problemi di automobili di parcheggio perché sono venuto in bicicletta però non ho chiesto lo stesso raddoppio dei tempi dovrei riuscire a stare nel range nel limite mi auguro nella buonarietà del Presidente se vado appena 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 dopo innanzitutto due osservazioni poi arriverò delle considerazioni si parlava di tagli è vero tagli si possono fare a livello centrale a livello locale forse è più difficile visto tutti diciamo ciò che è stato fatto anche negli anni precedenti che la spesa corrente del nostro comune può essere altissima o bassissima a seconda di uno come la guarda un po' come il bicchiere però sicuramente è in linea con i servizi che diamo copre il range che la pubblica amministrazione diciamo centrale dice che dobbiamo avere quindi non abbiamo problemi ma non si parla di tagli al Ministero della Difesa inteso non come carabinieri mi spiego meglio l'articolo 11 che è dietro di noi dice l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli via dicendo stiamo forse investendo sicuramente abbiamo già investito sugli F30 abbiamo investito su delle fregate che sono in giro per il mondo e fregate sia il tipo di nave che forse anche fregata inteso come sostantivo vero e proprio anche se è un linguaggio forse più lombardo che nazionale quindi si può sì tagliare qualcosa è la volontà politica e come diceva il consigliere rivolto al bilancio è un atto decisamente politico per arrivare a certe soluzioni di problemi alcune considerazioni io sono personalmente del parere che una tassazione sulla casa sia corretta e spiego perché la tassazione sulla casa viene praticata dalla stragrande maggioranza degli stati europei barra occidentali e non solo ma perché questo perché la casa bene o male è un bene mentre il lavoro è la fonte di sostentamento ed è ciò che ci consente di avere anche la dignità di avere i diritti per andare avanti ecco perché dico che abbiamo la più alta tassazione invece in rapporto agli stati europei occidentali e non solo nel costo del lavoro questo vale sia per l'impresa che per il lavoratore quindi avrei sicuramente spostato nel tempo la tassazione con una minore tassazione sul costo del lavoro e avrei lasciato invece quella sulle case però è un mio modesto parere forse non è l'unico come però è sicuramente un mio parere quindi andavano diminuite le transazioni nel mondo del lavoro e non sulle e sulle prime abitazioni e governi lungimiranti avrebbero fatto sicuramente questo ma probabilmente noi negli ultimi anni di governi lungimiranti siamo rimasti senza compreso anche quello attuale a mio modo di vedere Italia Bene Comune aveva un progetto di rimodulare l'IMU sulle prime case continuando nel percorso iniziato dal governo Prodi vorrei sottolineare il governo Prodi che aveva inserito delle soglie di salvaguardia per redditi passi fino ad esentare totalmente gran parte delle prime abitazioni ora abbiamo governo delle larghe intese diventate medie ultimamente e questi sono i risultati vorrei sempre far presente che il penultimo presidente dell'Anci manifestava a fianco dei sindaci in quanto l'IMU doveva rimanere direttamente o come trasferimento dell'ente centrale per le medesima cifra che aveva in precedenza e con le stesse tempistiche di attuazione ora essendo ministro nel governo di medie intese si è scordato di alcune cose del passato o di alcune battaglie che portava avanti in prima persona un consigliere prima di me ha detto un comune deve fare affidamento sulle proprie risorse d'accordissimo l'ICI e poi l'IMU erano risorse locali i governi devono permettere questo se non lo permettono più se fatica a stare a camminare con le proprie gambe se a questo punto le gambe vengono un attimino tarpate passatemi il termine il governo ha più volte dichiarato che questa legge di stabilità non avrebbe messo le mani nelle tasche dei cittadini è vero il governo sta delegando i sindaci a fare questo lavoro sporco dico sporco in quanto molte tasse imposte di locale hanno solamente il nome quando ero piccino guardavo un telefilm qualcuno magari se lo ricorda in televisione che si chiamava l'ultimo minuto non so se ve lo ricordate mi piaceva tantissimo mi incollavo davanti alla televisione in bianco e nero con lo schermo bello grosso che scaldava tantissimo e lo stabilizzatore sotto e in questo telefilm vi era una persona in pericolo fino all'ultimo minuto di questo telefilm e veniva salvata all'ultimo minuto ecco perché abbiamo condiviso di attendere fino all'ultimo minuto e si vi erano le possibilità per recuperare finanze per la nostra città per i nostri concittadini se stesi il nostro lavoro è questo molte volte in quest'aula si è detto che noi non approfittiamo dei bandi non approfittiamo delle opportunità questa era una possibilità era un'opportunità da cogliere se era possibile e da cercare di sfruttare fino all'ultimo momento che erano le 23 e 59 di oggi grazie grazie al consigliere nostro io vado avanti sempre con le prenotazioni che ho preso nota mi risulta la consigliera Pietra ha chiesto la parola e ne ha facoltà prego grazie presidente avevo paura facendo alcune riflessioni tra me e me ho detto non è che uscirò dal tema però mi sembra che chiunque sia intervenuto abbia poi allargato una serie di considerazioni quindi mi permetto anch'io di fare alcune considerazioni in merito ad alcune cose dette oggi non in merito a cose dette in altri momenti nella mia ingenuità di non politica di professione non lo so con una lunga non storia politica nelle istituzioni spesso mi meraviglio per alcuni atteggiamenti che hanno i consiglieri qualche consigliere di opposizione dove dicono delle cose e dico ma non è così cioè e spesso mi viene detto l'opposizione fa il suo mestiere ora io credo che invece un'onestà intellettuale stia la persona non tanto a quale situazione si trova a vivere quella persona visto che l'onestà intellettuale è stata richiamata più volte da alcuni interventi mi rivolgo al consigliere Caponi il consigliere Caponi spesso nei suoi interventi anche spesso quando conclude ci fa una sorta di predica buonista dove ci chiede ci mostra la sua buona volontà e dice che non ascoltiamo non si ascolta da questa parte o da parte della giunta del sindaco le proposte dell'opposizione e credo che oggi sia stato anche pesantemente offensivo anche verso la persona della nostra sindaca non sto a ribadire che non la penso come lui perché mi sembra evidente però voglio ricordare alcune cose credo che alcune cose affermate siano un falso io faccio un piccolissimo esempio Sesto nel cuore ha presentato un interessantissimo progetto sui parchi sportivi o chiamiamoli come vogliamo la cosa alla presentazione io ho partecipato e mi interessava sono andata dalla mia sindaca e ho detto non si può vedere mi sembra una cosa sarebbe bello a Sesto la sindaca mi ha detto dai vediamo come si può fare io per quattro volte anzi cinque volte ho telefonato al collega Caponi il quale ha avuto dei problemi ho avuto dei problemi anch'io mi ha sempre risposto che mi avrebbe richiamato a tutt'oggi io non ne so nulla allora non diciamo che non si viene mai ascoltati perché poi quando c'è un interesse io mi sento in questa situazione diciamo rimbalzata dopodiché mi fa piacere alcune cose che sono state dette voglio ricordare anche alla collega Franciosi che il comune di Sesto è un comune virtuoso perché qui a volte si fanno delle affermazioni del tipo la frase che ha detto la collega Franciosi gli altri comuni che invece sono virtuosi è una cosa simile il comune di Sesto dal punto di vista dei bilanci è da considerarsi ufficialmente un comune virtuoso dopodiché adesso state dette anche una serie di cose del tipo che i maggiori servizi li procura lo Stato peccato che per la qualità dei servizi che sono stati citati come quello della scuola pubblica e della salute pubblica molto spesso indispensabili e di aiuto fortemente alla qualità del servizio viene dagli enti locali e si richiede agli enti locali quindi direi che non è come viene affermato non avevamo bisogno di questi soldi e lucriamo eccetera il consigliere nostra l'ha detto molto bene lo Stato ha trattato tutti dal comune mafioso al comune virtuoso nello stesso modo non è lucrare è trovare la possibilità di trovare eh di trovare mi disturbano persino i miei di trovare dei soldi per fare una serie di cose perché non è siamo in parità ma si fa una fatica incredibile credo che c'è tanta voglia di fare una serie di cose che purtroppo nella realtà poi non possiamo materialmente farle dove tagliare beh io scusate poi magari non la pensiamo tutti nello stesso modo ma tagliamo gli F35 io credo che dei tagli ci possano essere e forse anche un invito al governo per avere un rapporto diverso con l'Unione Europea che non sia la padrona del nostro futuro eccetera forse possiamo richiedere io credo che questa battaglia che l'Anci sta facendo che alcuni comuni stanno facendo vada anche in questa direzione grazie grazie alla consigliera Pietra ha chiesto la parola alla consigliera Iose nella facoltà grazie presidente allora vorrei incominciare con una considerazione l'altra sera dopo la commissione in cui preciso di essere stata muta ascoltando la proposta di delibera sul limo e attendendo poi il giorno dopo eventuale ordine del giorno ed emendamento anche se poi le variabili sono cambiate perché in questi giorni mi sono sentita un po' usata sulla mia posizione assunta prima in commissione poi alla capogruppo comunque discutendoci discutendo e confrontandoci sulla presentazione della delibera IMU che prevedeva il passaggio dallo 04 allo 06 c'è stata una persona che mi ha risposto ma pensate di andare a rubare a casa del ladro passatemi la battuta che è poco felice perché nessuno avrebbe rubato nulla ma effettivamente era un po' impensabile credere che lo Stato ci avrebbe fatto questo regalo visto la situazione devastante in cui anche lui verte ci avete provato e credo che sia facoltà di ognuno scegliere le sue battaglie politiche quelle che vuole perseguire l'importante è che non gravino come ci siamo detti sulla testa dei cittadini tanto più per un comune che proclama di avere rispetto per le esigenze delle classi meno abbienti perché le tasse in realtà sembra sempre che nascano indirizzate ai ricchi ma poi in realtà finiscono sempre per danneggiare i più poveri certo 2 milioni e 700 mila euro anche se sembra non ci servissero per quadrare il bilancio ci avrebbero fatto molto comodo esempio per il debito delle farmacie credo però che dovremmo seriamente ripensare su quali tagli determinanti ha fatto il nostro comune tutte le spese sono veramente indispensabili abbiamo preso visione della variazione tecnica che tutte le volte proviamo a capire dico proviamo perché sembrano studiate per andare contro il buon senso e contro quello che dovrebbe essere un normale ragionamento dicevo abbiamo preso visione delle variazioni tecniche e del fatto che l'assessore Montrasio asserisce che il nostro è un bilancio che non ha problemi anche se ci sono tanti dati variabili di imposte che non sono state ancora riscosse e che non si sa se verranno riscosse nel prossimo anno ascoltate i tecnici e letta la delibera comunque alla fine sembra sempre che ci sia un pezzo che manca il discorso è come se non fosse finito perché se è vero che siamo in un momento storico di governo che rasenta il paradosso e l'esempio chiaro l'abbiamo avuto con la Tarsu Tares Tarsu che siamo arrivati a un momento che non ci capivamo più niente è altrettanto vero che quel pezzo che per noi manca è la gire facciamo le commissioni con la dottoressa Orsetti che si sforza di rendere ragionevolmente accettabile la follia altrui che dall'altro ci governa l'assessore in soldoni dice state tranquilli noi ci siamo mossi in modo tale che questo castello di carta comunque non crollasse a quel punto poi c'è qualche consigliere che si sgola per sottolineare la bontà dell'operato dei tecnici che nessuno secondo lui può mettere in discussione le domande sembrano diventate maleducazione e siamo sempre al punto di partenza che per noi manca qualcosa partendo dal presupposto che secondo molti i movimenti e le liste civiche hanno decisamente abbassato la discussione politica in consiglio comunale la domanda è ma la discussione di che cosa e soprattutto su che cosa quali sono i progetti qualsiasi azienda di buon senso e capacità imprenditoriale a questo punto avrebbe ormai fatto un piano B perché questa è un'azienda con un bilancio con dei costi tanti costi e delle entrate l'equilibrio di questi due fattori dovrebbero garantirne il suo funzionamento poi sicuramente una variabile importante che definisce l'utilizzo dei beni e dei soldi disponibili è la mission che uno si pone ognuno ha la sua che abbiamo espresso e che il sindaco chiaramente ha espresso nel suo programma elettorale ma poi alla fine dai numeri comunque non si scappa parlavamo prima del piano B io non credo che per i politici navigati che amministrano l'azienda comunale di Sesso San Giovanni sia una novità quello che sta succedendo e l'accoramento con cui il sindaco l'altra sera spiegava e sosteniva la delibera presentata per portare l'aliquota dallo 04 allo 06 penso lo dimostri chiaramente poi magari non si poteva immaginare le proporzioni del buco nero che tutta questa storia avrebbe preso comunque ad oggi un piano B non c'è e per piano B intendo fatto salvo che di soldi non ce ne sono non ne arriveranno o ne arriveranno sempre meno io comune proprietario di immobili di aziende partecipate prestatore di servizi gestore di strutture che progetto ho per far rendere il mio patrimonio per far rendere il mio patrimonio ma soprattutto per raggiungere la mia mission che è quella che avevo detto durante nella stesura del programma elettorale un'azienda funziona così si pone un obiettivo fa un progetto baglia le varie possibilità e cerca di raggiungere l'obiettivo perché fino a quando parliamo di ideali finché parliamo a bocca piena di scelte politiche quelle che abbiamo fatto durante questo anno il testamento biologico le coppie di fatto la cittadinanza onoraria senza togliere minimamente valore a queste scelte in fondo alla delibera c'è scritto a costo zero per il comune se poi però parliamo di casa di emergenza casa se parliamo di lavoro se parliamo di sicurezza e di servizi beh queste cose un costo ce l'hanno e anche molto alto e d'altronde con tutto il rispetto per l'arrivo della città della salute non è che possiamo pensare di campare per i prossimi quattro anni su convegni e incontri e raccontarci di quanto sarà bello e di quanto valore aggiunto questa cosa porterà la nostra città sotto i piedi in questo momento abbiamo la cosiddetta città costruita e i suoi cittadini e i suoi imprenditori e questa parte dobbiamo cercare di far funzionare però di progettualità ce n'è ben poca quando si parla di campari di ABB di Alstom sono aziende che si sono spostate sul nostro territorio e benvengano ma il suo indotto c'era già si è spostata dalla vecchia sede alla nuova sede da lustro ma non genera innovazione e non genera nuovo noi stiamo continuando a tappare i buchi dite che accantoniamo 500 mila euro per le farmacie e che la trasformazione ha senso così non graveremo sulle tasche dei cittadini ma di chi sono questi 500 mila euro e di chi sono le farmacie perché in commissione c'è stato detto chiaramente che il valore sociale di questa azienda non si toccava io penso che questa amministrazione ha il mandato per amministrare e non per fare il salto all'ostacolo certo ci vuole coraggio per scegliere e per dire abbiamo sbagliato è sicuramente più facile creare magazzini e avviamenti improponibili o aspettare Babbo Natale Stato ad oggi devo dire che se la mission è gestire i fondi statali e le tasse dei cittadini non c'è bisogno di fare commissioni che tra l'altro ultimamente si stanno trasformando in guerriglie tra i vari componenti e tavoli di lavoro dove c'è concesso al massimo di decidere la delibera sull'illuminare di cui parlava prima anche la consigliera Landucci ma di altri progetti di altre proposte che vengono fatte non ce ne traccia mi piacerebbe veramente vedere l'enfasi espressa dal sindaco per questo ultimo caos IMU anche su tante altre argomentazioni e proposte che cadono nel nulla altrimenti la dottoressa Orsetti è sufficiente per fare i conti a quanto pare gli riescono anche molto bene non c'è bisogno che continuiamo a trovarci a fare commissioni a scannarci tra di noi un piccolo PS stiamo attenti quando vediamo ai consiglieri di qualsiasi partito siano della banderuola perché detto da uno che ha cambiato tre partiti consigliere De Noia fa abbastanza sorridere in più volevo specificarle una cosa che il comunicato a cui si riferivano del suo ex partito l'IDV fa riferimento a scelte che avrebbero dovuto essere fatte nel momento in cui lei era capogruppo quindi mi sembra più che legittimo chiedere le spiegazioni grazie grazie alla consigliera ha chiesto la parola consigliere Foggette nella facoltà prego grazie allora innanzitutto parto col dire che come federazione siamo soddisfatti e abbiamo grande fiducia nella relazione tecnica data in commissione che ci assicura rispetto al pareggio di bilancio e alla questione patto di stabilità cosa che non so quanti se tutti i comuni possono dire possono assicurare sicurezza che non so se tutti i comuni hanno rispetto a questo assestamento volevo dire che sempre come gruppo federazione della sinistra siamo molto soddisfatti dalla questione evasione fiscale dall'entrata riportata dalla lotta l'evasione fiscale che come sa chi c'era nello scorso consiglio comunale essere stata una grande battaglia dell'ex consigliere la corte adesso della federazione a sinistra siamo soddisfatti che sia siamo orgogliosi forse che anche grazie a noi sia stata colta e sia stata colta in questo modo dall'amministrazione e dall'assessorato a tal proposito vorrei dire che su questo dovremmo studiarci bene il regolamento rispetto all'ise del comune di Livorno che su questo ha tanto da insegnare a tutti anche a comuni virtuosi come quello di Sesso San Giovanni arrivando alla battaglia politica degli ultimi giorni ho sentito più volte anche oggi menzionare quella nozione del diritto che ai tempi del liceo mi faceva un po' sorridere che è la regola del buon padre di famiglia è stata tirata fuori in diverse accezioni innanzitutto dal consigliere Nossa che ne parlava per dire quanto giusta fosse la decisione di rimandare ad oggi di rimandare di ritirare le delibere all'ordine del giorno del consiglio comunale di giovedì e ne parlava poi la consigliera Landucci per ricordare quanto un buon padre di famiglia prima assicura in pratica la questione la prima assicura lo 04 poi pensa lo 06 partendo dal presupposto che non vuole essere una una provocazione sterile nei confronti della consigliera Landucci che già ce ne sono state in passato non vuole essere questo il caso l'unica cosa però mi rifaccio a quanto ho detto prima alla consigliera Landucci e dico paragonare mi trovo terribile che si paragoni l'aspetto educativo che sta dietro la scuola pubblica e dietro gli asili paragonarlo e semplificarlo alla figura di una babysitter credo detto mi dispiace detto da una professoressa questo mi fa venire un po' i brividi tornando alla questione del buon padre di famiglia io credo che negli ultimi giorni no io credo scusatemi che da non padre di famiglia non sono padre Dio me ne scampia ancora per qualche tempo quantomeno per i figli che dovessero arrivare soprattutto per loro io mantengo ancora la focosità del figlio e vedere in questa in questa battaglia io avevo visto la lotta di un buon padre di famiglia per garantire alla propria famiglia mogli e figli anche oltre alla questione economica oltre alla sicurezza economica anche la dignità che in questo momento i nonni di famiglia mettiamola così ci stanno togliendo ci stanno togliendo in ogni in ogni modo a questa lotta a questa lotta fatta dal comune dai comuni a questa lotta che tra l'altro mi piace ricordare è un un esempio positivo a dispetto di quello che abbiamo più sotto gli occhi un esempio positivo di larghe intese perché è una lotta che univa come si diceva prima forse più comuni di sinistra ma di sicuro anche diversi comuni di destra non per ultimo il comune di Varese questa lotta che è un buon esempio un esempio positivo di larghe intese le larghe intese di Roma hanno deciso di rispondere come diceva prima l'assessore Montrasio hanno deciso di rispondere con una ripicca dimostrando una grande una grande prepotenza questo mi dispiace ci dispiace come federazione della sinistra perché noi questa lotta la condividevamo innanzitutto la condividevamo a pieno in ogni in ogni punto e al punto appunto la condividevamo in ogni punto tanto da arrivare a a provare a chiedere di rivedere addirittura le altre aliquote se fosse stato possibile in un in un gioco di questo tipo quindi tornando alla questione del buon padre di famiglia io credo che in questi ultimi giorni si sia dimostrato quanto Sesto i cittadini sestesi abbiano non un buon padre di famiglia una buona madre di famiglia e non intendo solo per eliminare l'accezione maschilista di questa regola di questa antica nozione del diritto italiano e non intendo per madre di famiglia solo la sindaco Chittò ma intendo tutta la giunta e tutti gli assessori che ne fanno parte perché innanzitutto ha assicurato quello che dicevamo prima ha dato sicurezza ai propri cittadini garantendo che il bilancio fosse comunque in regola ha rimandato la discussione quando la situazione di incertezza è diventata palese e oggi mantenendo quella parola che era stata data inizialmente per cui non si sarebbe messo mano alle tasche dei cittadini ritira questa delibera perché è sotto gli occhi di tutti mi dispiace se si dice il contrario che si era detto che non si sarebbe messo mano alle tasche dei cittadini e questo si sta facendo quello che era in previsione le aliquote che erano in previsione fino a qualche mese fa stanno per essere deliberati anche adesso questo quindi ringrazio giunta e sindaco grazie grazie consigliere Foggetta ha chiesto la parola alla consigliera si mi risulta qui a quello no no prego meglio prima io così mi sembra che lui fosse già in lista perché io mi sono mi sono messa ora no è stato un problema di regia però risulta prima Romaniello ah c'era tremolata si si regia allora la parola consigliere tremolata prego si giusto per dare un contributo anch'io alla discussione scusa poi conviene riprenotare sul video per favore così anche la regia grazie vado vado dicevo solo un contributo su una un singolo aspetto che non riesco a esaurire in questo intervento ma non mi non mi sembrava corretto lasciar cadere quindi lo accenno solamente ma mi sembra abbastanza interessante e la cosa che mi interessa è il problema che è venuto fuori oggi pomeriggio se sia corretto o meno tentare di recuperare delle risorse in più rispetto a quelle che erano previste risorse che non è che andiamo a rubare a qualcun altro ma si tratta di un maggiore ritorno sul territorio delle risorse che i cittadini versano come tasse oppure meglio ancora legare questo tentativo di far di tentare di recuperare queste risorse facendo rilevare un'incongruenza secondo noi rispetto alla modalità che ha il governo di operare in questo caso secondo me si si è scontrati con una diversa concezione di necessità cioè la necessità di questi soldi allora ci sono due necessità una necessità di quadratura del bilancio e qui abbiamo detto che questo tipo di necessità non c'è questa necessità spetta secondo me come analisi più ai tecnici ai dirigenti della macchina comunale e che ne fanno un discorso di quadratura del bilancio ma c'è anche una necessità che secondo me compete di più a me come consigliere come elettro dei cittadini che è una necessità di bisogno del cittadino allora se io esco di qua e chiunque incontro gli devo raccontare se secondo lui noi abbiamo bisogno o meno di maggiori risorse sul territorio comunale penso che raggiungeremo l'unanimità nel ritenere che le risorse servono perché ci sono diversi capitoli nei quali non possiamo ritenerci soddisfatti e quindi queste risorse non le avremmo sprecate le avremmo utilizzate come penso abbiamo sempre fatto nel migliore dei modi allora qua si pone il tema interessante che scivola su un piano etico e quindi non si riesce a risolvere oggi però quello che proponeva la consigliera Landucci il patto di lealtà istituzionale per il quale gli enti pubblici prendono secondo la loro necessità e danno secondo le loro capacità a parte che questo secondo me è un'utopia che nella storia ha già avuto un riscontro negativo che si chiamava comunismo secondo me bisogna darsi delle regole diverse allora intanto c'è sempre la prima volta nella vita dovevamo fare il consiglio di sabato pomeriggio sarebbe bello sarebbe bello non avere più bisogno dell'ISE ma chiunque ha bisogno di mandare il bambino all'asilo paga secondo quello che può pagare e riceve un servizio fatto bene purtroppo bisogna darsi delle regole perché non è naturale che questo avvenga allora un inciso è sul fatto che tutti gli enti pubblici agiscano allo stesso modo cioè come diceva lei prima il comune dice no non tocca a me comincia tu eccetera eccetera questo è parzialmente vero perché se lei legge la redazione del presidente dell'Anci di Firenze non dice proprio questo dice noi non ci tiriamo indietro come comuni dallo sforzo che ci ha chiesto che ha chiesto a tutte le amministrazioni pubbliche di ridurre la spesa per un discorso generale riteniamo come comuni di avere già dato molto e questo sono dei numeri riteniamo di di dover andare avanti ma attenzione che forse il tagliare in maniera indiscriminata in questo modo anche molto poco coerente provoca più danni che benefici poi alla fine a quello che ci interessa che è il cittadino famoso che noi possiamo dopo intrepellare allora quello che mi lascia un po' in questo pomeriggio e mi ha lasciato in questa vicenda un po' disorientato è proprio questo cioè noi a livello di politica in generale non solo in comune di sesto ma in generale ci siamo dati delle regole si parlava prima di un'azienda un'azienda fa il suo budget poi spende da dei servizi ai cittadini viene giudicata per come dà il suo servizio il continuare a cambiare regole in corso che è diventato oramai un'abitudine per cercare da parte del governo centrale degli enti di rincorrere la possibilità di chiudere i bilanci in regola ci spiazza da questo punto di vista cioè non ci dà la possibilità di fare un bilancio preventivo prima dell'inizio dell'anno decidere insieme delle scelte politiche dove concentrare le risorse su che cosa concentrare le risorse spenderle e dare dimostrazione ai cittadini di avere le spese bene o male tutto qua visto che siamo su un piano etico secondo me un'altra cosa da considerare è stato considerato dal punto di vista dell'aspetto del fatto che si sia tentato di recuperare queste risorse l'altra faccia della medaglia che io faccio notare è che il governo in questa ipotesi ridarà una parte di queste tasse aggiuntive cioè dello 0,2 di limo aggiuntivo lo restituirà ai comuni che ne hanno bisogno per fraquadrare il bilancio mentre al comune di Sesto non darà niente perché essendo stato virtuoso e non avendo bisogno di chiedere soldi ai cittadini in una giunta non so pongo una domanda questo è etico invece? Grazie Grazie consigliere Tremolata ha chiesto la parola con addoppi dei tempi il consigliere Romaniero ne ha facoltà Prego Grazie presidente l'ho chiesto spero di stare sotto i 10 minuti quindi di non utilizzare assolutamente il raddoppio dei tempi così permettiamo poi al collega rivolta di raggiungere la famiglia in tempo e anch'io Allora voglio dire semplicemente questo le cose che si sono dette oggi sono state tante ci sono state qualche inesattezza e partirei da un punto da un dispiacere personale perché secondo me in questa fase è mancata un po' di unitarietà perché su questo tema questa spaccatura che si è venuta a creare tra maggioranza opposizione secondo me è stata inopportuna visto poi come era stata presentata la cosa l'obiettivo che intendeva perseguire è il lavoro poi che c'è stato dietro sia dei politici e anche soprattutto dei tecnici partiamo da alcune considerazioni prima si diceva che mercoledì si sapeva già tutto che era già chiara la situazione allora vi dico perché poi il vero grande problema è l'incertezza che è regnata in questi mesi e che ci ha portato al 30 di novembre a formulare questo consiglio comunale l'unico documento ufficiale che c'è oggi è il comunicato stampa numero 38 presente sul sito di Palazzo Chigi che sostanzialmente recita per quanto concerne appunto la discorso IMU che sostanzialmente sarà carico si prende in considerazione l'aumento dalla liquido standard e sarà carico per i comuni circa la metà dell'aumento effettuato quindi è chiaro che chi si trova poi ad amministrare sa le cose e le sa ufficialmente attraverso dei documenti ufficiali e i documenti ufficiali non sono certo dei comunicati stampa che sono anch'essi stessi imprecisi ma sono quelli che chiamiamo decreti legge ora so che l'assessore sta monitorando il sito da dove escono i decreti legge pare che ancora adesso non ci sia il decreto legge quindi ufficialmente ad oggi quello che è stato prospettato non è ancora stato scritto nero su bianco sull'unico documento ufficiale che consente agli uffici e all'amministrazione di procedere poi dire che qualcuno aveva previsto lo scenario io mi sono ascoltato la registrazione della commissione io questo scenario qua che è non l'ho sentito la riascolto anche stasera magari mi è sfuggito qualcosa ma sinceramente non credo di averlo sentito quindi qual è il punto fondamentale sostanzialmente c'è stata una scelta una scelta politica ma che dietro nascondeva anche qualcosa di più nel senso che poi alla fine noi ci siamo trovati nella condizione di avere un'opportunità come diceva prima l'assessore Montrazio a fronte diciamo di quella che è legittima difesa perché è vero è ragionevole quello che dice la consigliera Landucci che ci vuole un palto di lealtà istituzionale ma deve essere bidirezionale cioè deve essere un patto tra entrambi gli attori in questo caso lo stato centrale e gli enti locali perché se è unidirezionale questo può evidentemente creare delle situazioni non piacevoli adesso se noi andiamo a vedere nel sole 24 ore di oggi quelli che sono stati i comuni che si sono posizionati al di sopra della liquida standard quindi con una liquida che va maggiore di 0,4 ce ne sono 2.375 perché hanno compreso anche quelli che hanno effettuato l'aumento nel 2012 tra questi comuni ci sono comuni importanti adesso io ho visto Napoli vabbè Milano già si sapeva ho visto Parma e ci sono una serie di altri comuni importanti quindi quello che è stato fatto è stata secondo me una grande operazione una grande operazione perché abbiamo ci siamo messi nella condizione di stare fino all'ultimo alla finestra per cogliere questa opportunità e è stata presentata in maniera chiara ora io posso comprendere chi magari non era presente alla commissione che non abbia colto il senso dell'operazione e anche in questo caso invito sempre a risentirsi le registrazioni però l'assessore si è presentato e ha detto abbiamo i conti a posto siamo nella condizione di vogliere cogliere l'opportunità se qualcuno venisse a chiedere a me tra avere 2 milioni e 700 mila euro e non avere 2 milioni e 700 mila euro io rispondo sì io preferisco averli ora poi c'è stato questo tour beyond i comunicati dove si è fatto un po' di sono fatti i soliti minestroni si sono tirati in balle le farmacie ora non confondiamo però gli argomenti un conto è dire ci abbiamo una situazione su cui dobbiamo intervenire che sono le farmacie e a breve verrà presentato il business plan e su quello potremo fare le nostre considerazioni legittime rispetto a quello al fatto che se il business plan ci convincerà piuttosto che se non ci convincerà però ecco non cerchiamo poi quando ci presentiamo alla cittadinanza di mescolare gli argomenti perché aggiungiamo confusione alla confusione che è già presente quindi l'impressione che ho io che poi alla fine si sfrutti poi qualsiasi evento su cui francamente questo voglio dire c'era anche secondo me poco da discutere perché poi alla fine l'idea di portare avanti questa scelta di aspettare fino all'ultimo per cogliere questa opportunità ma voglio dire ma chi è come non si fa ad essere d'accordo premesso premesso che poi anche qui l'amministrazione in particolare anche il sindaco è stato chiaro non cercheremo di incidere assolutamente sulle tasche di cittadini tanto è vero che in questo elenco dei 2375 comuni non figura il comune di San Giovanni quindi c'è stata una linearità nella presentazione una linearità nel perseguire l'obiettivo e quindi francamente trovare questa questa discussione così ampia su questo lo trovo lo trovo incomprensibile poi quando si dice che ci sono i tecnici che sono asserviti alla politica in maniera impropria attenzione i tecnici sono quelli che traducono dal punto di vista organizzativo operativo le scelte che sono politiche e le traducono nel rispetto della normativa e nel rispetto delle loro mansioni voglio dire la Fiore non è che si presenta la mattina e decide oggi mi occupo di giardinaggio la Fiore si presenta in ufficio perfetto io sono contento che lei mi richiami su questo punto sono veramente molto contento perché questo mi fa piacere perché vuol dire che il messaggio di quella sera lì è passato quindi condivido il suo punto di vista allora adesso farò mi sono ecco quindi sostanzialmente per cortesia per cortesia vado avanti consigliere allora per cortesia consigliere vado avanti consigliere che è Romaniello prego quindi anche adesso vado oltre vado oltre anche con una sorta di 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 voglio mettere questo punto di riflessione poi non entro nel merito se sia giusto o sbagliato perché poi tutti ci riempiamo la bocca dicendo che non vogliamo gravare sui cittadini vogliamo fare una politica che non vada a pescare nelle tasche dei cittadini questo lo diciamo a tutti ed è assolutamente condivisibile però facciamo l'esempio pratico di quello che si prospetta adesso conti alla mano conti alla mano cosa stiamo dicendo sostanzialmente ai cittadini sestesi io ti stavo per chiedere un euro questo euro che tu mi davi a me comune sarebbero diventati due euro e cinquanta perché l'altro euro e cinquanta me l'avrebbe dato lo Stato quindi è più conveniente dire al cittadino sestese tieniti l'euro in tasca e io comune non ho niente piuttosto che dire dammi un euro che io comune ho due euro e cinquanta ma bene e questo è legittimo voglio dire questa è una posizione questa è una posizione questa è una posizione legittima voglio dire sì però però voglio dire parlavamo del rispetto parliamo del rispetto poi dopo mi cade sull'interruzione consigliere Romaniero guarda verso la presidenza almeno così prego io la guardo sempre con molto piacere e quindi questo è un punto è un punto di riflessione su cui è opportuno fare anche delle riflessioni sostanzialmente perché perché non sempre non sempre non sempre diciamo così la scelta che sembra più ovvia è quella che non va a diciamo così intaccare l'interesse del cittadino quindi su questo ecco invito poi tutti quanti a fare sostanzialmente una riflessione io non voglio togliere altro tempo mi fermo qui con questa mia discussione ecco io spero che comunque l'approccio sia sempre quello sostanzialmente propositivo quando si arriva in commissione innanzitutto bisogna cogliere quello che è il senso delle comunicazioni che ci vengono fatte se non si comprendono è meglio fare una domanda in più che piuttosto che una domanda in meno in ogni caso in ogni caso non sfruttiamo qualsiasi elemento per diciamo così anche legittimamente fare della campagna elettorale perché poi facciamo un danno ai cittadini perché se poi creiamo della disinformazione alla disinformazione già presente veniamo meno poi a quelli che sono i nostri compiti istituzionali quindi va bene diciamo così portare avanti i nostri obiettivi ma lo facciamolo sempre nel rispetto del ruolo e delle istituzioni che rappresentiamo grazie presidente ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante prego io questa sera non volevo intervenire il nostro capogruppo si era espresso secondo me in maniera più che esauriente però durante il dibattito ho sentito delle affermazioni per cui mi sento di fare così di esprimere un po' la mia opinione si è parlato di amministrazione virtuosa io mi rendo conto dello sforzo che tutti che tutti fanno per portare avanti la gestione ordinaria però di fronte allo sperpero di soldi non solo delle farmacie comunali dove è mancato il controllo c'è uno sfacelo quindi non so parlare di amministrazione virtuosa non so a me lascia perplessa ma parliamo anche del consorso trasporti pubblici che non riusciamo a chiudere definire le trattative ma anzi si moltiplicano cioè un buon governo una buona amministrazione dovrebbe portare a casa il prima possibile chiudere il prima possibile non far spendere soldi centinaia di migliaia di euro ai cittadini ogni anno ecco queste non mi sembra anche questo non mi sembra una buona un'amministrazione virtuosa ma parliamo anche della gestione core cioè non riusciamo a far rispettare le condizioni contrattuali e far rispettare quindi una buona manutenzione e una buona pulizia delle strade tutti si lamentano su questo punto ma certamente io mi rendo conto che l'amministrazione avrà fatto interventi però sta di fatto che non si arriva al dunque non si arriva ad avere delle soluzioni concrete quindi anche su questo non so amministrazione virtuosa vabbè ma l'altro argomento che mi ha lasciato perplessa è stata una frase detta dal collega Rivolta che espressamente dice bisogna fare il possibile per recuperare il maggior numero di risorse possibili poi un concetto che è stato ripreso da diversi soprattutto poi da collega Romaniello cioè io non credo cioè per me questo è un discorso molto pericoloso perché una frase del genere vorrebbe dire troviamo risorse anche da un punto di vista illegale ma sicuramente il collega Rivolta non voleva dire questa cosa questo se la poteva risparmiare sicuramente non lo voleva dire però faccio riferimento no sicuramente non lo voleva dire questo però voleva però sicuramente io faccio riferimento a due casi che sto seguendo se recuperare il maggior risorso possibile vuol dire vessare la popolazione io non lo so se questo è giusto seguo un caso di un cittadino che ha perso un single ha perso il lavoro non ha potuto pagare la casa popolare il suo debito era di circa 1600 euro tra sanzioni interessi di mora questo debito è diventato di oltre 25 mila euro non lo so se questa è una cosa giusta è un'amministrazione virtuosa che invece di essere al servizio dei cittadini la vessa in questo modo questo è un esempio ma ne posso dire un altro di un lavoratore che per non aver pagato una fiduzione di 250 euro e ha occupato per il suo lavoro il suolo pubblico senza questa garanzia si è ritrovata una sanzione interessi di mora e vatte la pesca per altri 30 mila euro cioè a me sembra che c'è una sproporzione che addirittura fa paura e grida vendetta questa è un'amministrazione virtuosa questo è il modo di recuperare i soldi in ogni modo ma allora lasciamo stare questi commenti andiamo a quello che è l'ordine del giorno la variazione di un'aliquota imu questo 0,2% attenzione perché noi possiamo fare tutte le battaglie possibili che vogliamo ma se questo significa andare a fare delle scelte in uno scenario così incerto e qui come diceva il collega Romaniello ma se mi dicono di guadagnare 2 milioni io cosa faccio non ci provo ma questo è la logica del gioco d'azzardo stiamo attenti a fare questi discorsi questa è la logica del gioco d'azzardo quando io faccio la luret bianco-nero ho il 50% di probabilità e allora io cosa faccio per avere la possibilità di giocare per l'idea di poter vincere un tot io vado a giocare ma io non vado a giocare e un'amministrazione non si deve mettere in quest'ottica in questa logica assolutamente questa è una logica veramente perversa e noi ci stiamo cadendo dentro perché per giochi politici ma stiamo attenti a questa cosa stiamo veramente attenti qua noi abbiamo avuto il miraggio di un'isola nel deserto il deserto è che lo Stato i soldi non ce li ha e l'isola è quella di avere la possibilità di prendere 2 milioni e noi per questo miraggio ci stiamo qui stiamo qui a fare tutti questi giochi qua ma stiamo attenti questa è una logica pericolosa pericolosa altro che amministrazione virtuosa poi l'altra cosa che voglio dire che è molto importante sempre in quest'ottica le spese vanno razionalizzate questo modo di dire io sono con un comune contro il comune contro lo Stato queste sono logiche mi spiace dirlo medioevali ma è possibile che noi italiani o meglio la classe politica italiana non sia ancora superata su queste cose questa è proprio una logica medioevale i cittadini i poveri cittadini questa cosa la vivono molto male questi giochi politici non ne vogliono più sapere sono stufi di queste cose i cittadini sanno che siamo tutti in una barca l'Italia è nella stessa barca quindi questi giochi ad avere un soldino di più io e un soldino di meno lo Stato è un discorso che ormai il cittadino l'ha capito non ci sta più bene ai cittadini non sta più bene questo tipo di discorso e sono giochi veramente io vi chiedo io esprimo questa sofferenza che hanno i cittadini rispetto a questi giochi politici perché sono giochi che il cittadino non capisce e non vuole capire quindi io questa è l'osservazione che faccio poi da un punto di vista tecnico ritrovarmi nel giro di due o tre giorni una serie di ordini del giorno di variazioni di commissioni io dico scusate ma secondo me il nostro regolamento del funzionamento comunale è incompleto e quindi ho presentato un ordine del giorno affinché nel nostro regolamento fosse un attimino fosse regolamentato questo aspetto cioè non possiamo non possiamo ricevere due ore prima un ordine del giorno i consiglieri devono avere modo di poter approfondire l'argomento di poterlo studiare e di potersi preparare se c'è un carattere d'urgenza si decide per 24 ore soprattutto una variazione all'ordine del giorno se proprio ci deve essere urgentissimamente si delibera in consiglio all'unanimità perché se no ecco rientriamo nella logica di un'amministrazione che non sa governare ma che affronta di fronte all'urgenza in continuazione a squizziche bocconi questo è uno stile che noi dobbiamo superare grazie grazie alla consigliera Tite Ferrand in merito all'ordine dei giorni che ha presentato l'ho verificato non è attinente a questa delibera e quindi propongo come previsto dal regolamento di presentare agli uffici istituzionali una proposta di delibera in merito alla modifica del regolamento che dopo con l'ufficio di presidenza vediamo ci attiviamo alla presunzione come tale regolamento grazie la parola all'assessore no scusi scusi ma ha chiesto la parola al consigliere Vavassori prego grazie presidente sì io velocemente volevo fare alcune precisazioni anche in merito al discorso della convocazione della commissione alle telefonate che sono intercorse nella giornata di mercoledì proprio perché la confusione che regna sovrana a Roma e che ancora in queste ore non è ancora chiarito il concetto ha portato alle mie telefonate di mercoledì dopo che ero stato anch'io avvisato di questa giunta all'ordine del giorno io mi scuso con i capigruppo franciosi Caponi e Aiosa che non sono stati da me personalmente avvisati ma questo perché lo spiego pubblicamente senza nulla nascondere perché prima la prima chiamata che ho fatto è stata al vicepresidente la Miranda dove lo informavo della giunta dell'ordine del giorno successivamente ho avvisato la consigliera Landucci con la quale ho avuto una telefonata di mezz'ora e quindi come lavoro non ho più potuto avendo poi una riunione telefonare gli altri capigruppo e quindi ho chiesto e ringrazio il presidente del consiglio che si è reso disponibile ad affrontare le telefonate e mi risulta che l'unico che non è stato avvertito è il consigliere Caponi perché non aveva risposto al telefono durante la chiamata quindi questo giusto per fare chiarezza in merito al fatto che io la consigliera Landucci abbia detto che noi volevamo fare come il comune di Milano non è assolutamente vero è stata la consigliera Landucci che mi ha detto quindi volete fare come il sindaco Pisapia e io ho detto no non vogliamo fare quello è ben diverso consigliere La Miranda diceva che la battaglia politica non si fa sulle tasche dei cittadini e sono d'accordo però io credo che la battaglia politica si può e si deve fare per le tasche dei cittadini ed è quello che questa amministrazione ha voluto fare cioè cercare di fare una battaglia politica che potesse portare delle risorse in più senza gravare sulle tasche dei cittadini e questo è stato chiaro sin dalle prime battute di quella commissione poi ho provato abbastanza paradossale alcuni comunicati stampa che giustamente uno è lecito di fare e svolgere il proprio ruolo come meglio crede però parlare di solita arroganza del sindaco Chittò parlare di prove di forza parlare di battaglie che non esistono perché non è quello che è emerso da quella commissione la commissione si è chiusa con un impegno unanime di non alzare le tasse dei cittadini semplicemente se si poteva si faceva e io credo che questa dimostrazione del fatto che oggi la giunta ritira quella delibera è proprio dovuta a quella scelta chiara ed esplicita che è stata presa in commissione poi quando abbiamo dibattuto sul bilancio preventivo di questa amministrazione io ricordo che avevo fatto un intervento dicendo che il partito che era il partito di minoranza maggiore che era il PDL aveva perso il loro candidato sindaco non aveva partecipato alle commissioni cosa che è avvenuta anche adesso e però non era intervenuto durante il dibattito in aula sul bilancio di previsione mi aveva risposto il mi aveva risposto il capogruppo il consigliere la miranda diceva che non era necessario intervenire in aula che era stata una scelta politica perché bastavano cinque minuti una scelta politica e strategica diceva il consigliere la miranda e la scelta politica e strategica era quella di non far parlare il consigliere rivolta e la consigliera Anna Maria Antoniolli questo era la scelta politica e strategica della minoranza e oggi questa scelta politica non è stata così perché è intervenuto subito in prima battuta quindi non credo che all'epoca si facesse riferimento a una scelta politica o a una scelta strategica infine vorrei ricordare alla consigliera Landucci che ha parlato degli asili nido ha parlato dei costi dell'asilo nido ha parlato di 500 euro mensili per mezza giornata di frequentazione degli asili nido e a me risulta che la fascia che paga di più mezza giornata di asilo nido è la settima fascia che è quella superiore ai 40.000 euro di isa istantaneo che parla di 440 euro mensili neanche 500 settima fascia vediamo altri orari fino alle 4 del pomeriggio la sesta fascia da 35.000 a 40.000 pagano 547 euro mensili fino alle 4 del pomeriggio eravamo a mezzogiorno con 500 euro fino alle 6 di sera la quinta fascia quindi 30.000 35.000 euro fino alle 6 di sera paga 503 euro mensili quindi prima di fare certe affermazioni forse sarebbe opportuno verificare grazie grazie consigliere Vavassori la parola all'assessore Montrazio prego sì grazie ma qualche replica nel senso che vorrei ricostruire con estrema linearità il percorso perché mi sembra che il dibattito sia un po' stato con la testa per terra e i piedi fra le nuvole per citare fare vecchie citazioni da vecchie di un paio di secoli allora si configura a un certo punto per una serie di ragioni la possibilità di recupero di recuperare totalmente o parzialmente il maggiore gettito derivante dall'aumento dell'aliquote imu cioè si configura la possibilità di ridistribuire risorse alla città senza costi per i cittadini a un certo punto dopo la commissione viene meno la certezza non della totalità della copertura se questa da parte del governo sarebbe stata del 40 del 50 del 60 o del 100 viene meno la certezza di non far pagare i cittadini per questa ragione si decide di ritirare la delibera prendendoci tutto il tempo necessario possibile per non far correre rischi ai cittadini viene detto spesso che siamo vecchi e ideologici ma mi sembra che talvolta l'accecamento ideologico colpisca altri tanto da negare l'utilità di far arrivare alla città fino a 2 milioni e 700 mila euro a prescindere perché lo proponiamo noi l'amministrazione e la maggioranza e perché il comune di Sesto dovrebbe rinunciare all'opportunità perché deve perché dobbiamo noi soli solo il comune di Sesto far partire un meccanismo virtuoso e solidaristico rispetto allo Stato poi mi sembra anche un po' sconcertante l'intervento del consigliere Di Stefano secondo cui benvengano i tagli del governo perché sono pedagogici perché ci fanno capire ma purtroppo noi siamo un po' duri di comprendonio che è giusto privatizzare tutto perché sono tutti costi e quindi senza risorse dallo Stato questa è l'unica strada e peccato che questa si chiami politica e queste siano tutte scelte politiche per far parte della costruzione del rapporto tra pubblico e privato e tra l'altro a proposito di cecità ideologica contrariamente a quanto lui stesso scrive nel suo comunicato visto che i comunicati stampa sono stati abbondantemente citati ne approfitto anch'io non è vero che i tributi sestesi sono aumentati tra l'altro molti di quelli citati nel suo comunicato sono fermi dal 1995 prima dell'avvento dell'euro però vedo che non c'è più vedo che non c'è più e sarà andato a documentarsi meglio suppongo in proposito ok accanto alla cecità ideologica mi sembra ci sia anche un po' talvolta di sordità selettiva considera Landucci mi permetta di ricostruire la nostra telefonata che peraltro è stata fatta diciamo per cortesia istituzionale per preannunciare l'arrivo di una una mail lei ha detto che la copertura della manovra IMU sarebbe stata recuperata dal governo da tagli alla scuola pubblica e dai fondi stanziati e del rischio idrogeologico non me lo posso essere sognata al che al che io al che io le ho risposto che la copertura derivava da maggiori oneri posti a carico di banche assicurazioni che non a caso si sono appunto mobilitate nella medesima telefonata ovviamente non ho usato il termine lucrare soldi sono certa che intendesse lei utilizzare il termine nell'accezione nobile di Giacopone da Todi frate non disperare che il paradiso può lucrare a proposito di battiti medievali ma il nostro piccolo paradiso laico è garantire risorse e operare nell'interesse della città che amministriamo lucrare non è nel mio stile personale non è nello stile professionale dei nostri uffici e non è nel nostro stile politico e poi consigliera Titta Ferrante l'esempio che lei ha fatto è proprio sbagliato secondo me lei lo sa lo sa qual è la storia della vicenda del caso che lei stessa ha accompagnato abbiamo avuto più volte più modo di confrontarci sul tema insieme a me insieme agli uffici per tentare di risolverlo nel rispetto della legge perché rinunciare a quel credito sarebbe sì cosa illegale ma stiamo tentando di trovare una soluzione di buon senso chiudo tornando all'inizio del dibattito consigliere Lamiranda certo che motivo di orgoglio ma è motivo di orgoglio politico naturalmente dell'amministrazione della maggioranza dei partiti che ci sostengono non motivo di orgoglio personale tenere in piedi conti e servizi insieme con leggi che cambiano ogni giorno con soldi che spariscono improvvisamente e tutto senza aver chiesto risorse ulteriori ai cittadini la parola al sindaco per dei chiarimenti in merito prego allora innanzitutto permettetemi di ringraziare il dottor Sironi che è rimasto qui anche con noi oggi pomeriggio in rappresentanza del revisore dei conti e al quale chiediamo gentilmente di portare i nostri saluti e ringraziamento per il lavoro svolto avrei dovuto farlo all'inizio questo quindi di questo me ne scuso e la ringrazio di essere rimasto qui fino fino alla fine un'ora insolita diceva il consigliere la Miranda un po' scherzando e anche un po' indigesta io la trovo francamente un'ora civile perché mi ricordo in una delle prime capigruppo che erano state organizzate si chiedeva peraltro dalla parte femminile delle rappresentanze del consiglio comunale anche di anticipare l'orario dei consigli comunali oggi è una giornata particolare questo è sicuramente straordinaria non c'è dubbio straordinaria lo è da un punto di vista politico straordinaria non lo è da un punto di vista tecnico io non ho fatto altro che applicare quello che il regolamento prevede visto che è stato messo in discussione articolo 53 comma c 5 gli atti di cui al precedente comma 2 rimangono iscritti all'ordine del giorno fino alla loro trattazione ovvero vengono depennati su disposizione del presidente allorché i proponenti ne chiedano il ritiro di quelle due delibere io ho chiesto il ritiro non ho chiesto il ritiro della terza delibera perché non era di mia competenza politica e non era una delibera politica e ben ha fatto secondo me con diverse motivazioni però l'intero gruppo dei capogruppi a ritirarla quindi non ho fatto nulla di straordinario se non quello che è previsto da un regolamento che regolamenta l'ordinarietà del funzionamento di un consiglio comunale allora credo che come si è svolta la ricostruzione dei fatti sia stata fatta molto bene dall'assessore Montraseo rispetto a quello che è successo in queste ultime rispetto a quello che è successo in queste ultime ore credo che la battaglia politica piaccia o non piaccia noi abbiamo deciso di farla e l'impegno politico cioè il mantenere la parola cosa che in politica sembra che ormai sia una cosa inusuale noi l'abbiamo mantenuta io ho qui i comunicati stampa non so che cosa abbia letto il consigliere di Stefano che peraltro è andato via però nell'ordine uscito il 27 di novembre dicevamo l'emendamento qualora fossimo intervenuti con l'aumento dello 06 elementamento eccetera eccetera l'emendamento non interviene sulla gestione corrente del bilancio e dunque non provocherà in alcun modo un aumento delle tasse locali non costerà un euro in più di Imo a nessun cittadino che possieda l'abitazione principale ma può indurre insieme alle richieste di tutti gli altri comuni il governo rivedere la sua politica della finanza locale politica non condivisa non promesse ma promesse vuote ma promesse mantenute anzi impegni mantenuti comunicato stampa del 28 novembre dove dico è necessario utilizzare è necessario utilizzare tutto il tempo disponibile per avere chiarezza e sapere di quante risorse potrà disporre il comune ci uniamo alla protesta e dalla rivendicazione di oltre 600 enti locali che chiedono al governo di farsi integralmente carico dell'abolizione del Limo smettendola di depauperare le casse già topo dimagrite dei comuni è una battaglia alla quale la nostra amministrazione si onora di partecipare e della quale informerà puntualmente la cittadinanza così abbiamo fatto non abbiamo promesso abbiamo preso un impegno questo impegno noi l'abbiamo mantenuto poi permettetemi di dire una cosa sembra che quando parliamo di Sesto parliamo di una città che vive fuori dall'Italia in un contesto normativo dove le leggi cambiano di minuto in minuto in un contesto normativo appunto dove dalla Tares si passa alla Tarsu nel giro di pochi mesi dove non abbiamo ancora ad oggi almeno che non sia di adesso la pubblicazione del decreto che dovrebbe regolamentare anche questo consiglio comunale dove abbiamo informazioni soltanto attraverso la stampa che per di più forse volutamente sono anche tra di loro contraddittorie perché sul sole 24 ore di oggi che ricordava adesso il consigliere il consigliere Romagnello dove si evidenziano come 2375 comuni certo uno potrebbe dire i comuni sono 8000 peccato che questi 2375 siano quelli che hanno la maggioranza della popolazione ricordo solo alcune città Alessandria Belluno Bologna Brescia Catanzaro Forlì Genova Napoli Parma Roma Siena Torino Varese potremmo andare avanti per 2375 voci ma non lo facciamo bene in questo articolo del sole 24 ore uscito oggi si danno delle informazioni tra loro contraddittorie cioè si dice da una parte allora si dice da una parte che i comuni avranno tempo fino al 5 dicembre e non più fino al 9 per pubblicare sul proprio sito le aliquote 2013 per pubblicare ok dall'altra si dice che i municipi avranno tempo fino al 5 dicembre per variare le aliquote voi capite qual è il livello della differenza non c'è ovviamente bisogno io che ve lo spieghi quindi il fatto di aver deciso fino all'ultimo di stare di vedere se c'erano delle opportunità per la nostra città per i nostri cittadini senza che questo gravasse nelle loro tasche credo che questo fosse un dovere forte di un sindaco che si fa capo di una giunta che vuole il bene della comunità almeno che non si creda nel fatto che amministrare voglia dire farlo in modo furbo perché io adesso voglio poi vedere che cosa succederà nei prossimi mesi per tutte quelle città che l'hanno aumentato vogliamo vedere e vogliamo scommettere che la maggior parte dei cittadini non pagherà neanche quella piccola aliquota che rimarrà su chi ricadrà quella ovviamente su di noi anche perché saranno minori trasferimenti questo ne siamo consapevoli politicamente ne siamo consapevoli quindi non era mio dovere fare questa proposta non era mio dovere ritirare quell'ordine del giorno e riproporlo all'ultimo minuto sì era mio dovere poi io vabbè sono stati fatti dei passaggi politici sui quali io ovviamente non 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 condivido perché secondo me le risorse pubbliche quando sono ben spese sono risorse che arricchiscono i territori ieri ero a Firenze ieri ero a Firenze e sono andata a vedere un intervento di trasformazione molto interessante che non appartiene all'epoca renziana ma con questo non voglio ovviamente fare aprire il dibattito appartiene a un'epoca diversa a un recupero che è stato fatto di un monastero che poi è diventato come dire erano poi diventate delle carceri che sono le murate ed è un recupero di un quartiere enorme per il recupero di questo quartiere anche da un punto di vista architettonico veramente molto bello fatto molto bene peraltro tutto da professionisti interni al comune di Firenze per il recupero per questo recupero sono state usate le risorse delle case Gesca credo tanti anni fa ecco io vi invito ad andare se vi capita a Firenze se no a documentarvi sul sito perché questo vuol dire spendere bene le risorse pubbliche quella era una riqualificazione quello è diventato un polo culturale quel posto quello è diventato un luogo dove come dire sono state costruite delle abitazioni per persone che non possono permettersi di comprare o di pagare degli affitti di mercato convegni inutili e no qui ci sentiamo un po' presi in giro perché se non informiamo la città è perché non la informiamo se la informiamo è perché la informiamo noi abbiamo deciso di farlo in un modo assolutamente sobrio ma efficace abbiamo organizzato un convegno sulla città della ricerca della salute nella casa del comune cioè là dove le cose devono essere discusse coinvolgendo tutti gli attori istituzionali non solo ma anche tutte le realtà del territorio che in questo percorso dovranno che di questo percorso dovranno far parte insieme a noi ma non alla giunta insieme al consiglio comunale e insieme a tutta la cittadinanza e sono intervenute e hanno detto la loro e cosa ne pensavano e altri convegni ne faremo sulle bonifiche ci stiamo attrezzando perché abbiamo sempre detto che quel progetto non poteva essere e l'abbiamo condiviso tutti quel progetto non poteva essere un progetto preso e buttato lì nel deserto e non discusso della città quel progetto doveva essere deve essere deve diventare argomento di discussione pubblica non vogliamo vedere soltanto costruire qualcosa vogliamo capire che questo cosa questo porta perché l'abbiamo sempre detto che si trasformerà economicamente la città l'abbiamo sempre detto che si trasformerà dal punto di vista economico dal punto di vista culturale dal punto di vista sociale dopodiché queste trasformazioni vanno accompagnate poi che ci deve essere un'attenzione allo sguardo quotidiano della città sono io la prima a dirlo perché siccome vado in giro tutti i giorni esattamente come voi eppure il fine settimana non lo passo più con mio marito che adesso si trova a Firenze visto che c'era anch'io che sarebbe piaciuto oppure a me rimanere lì ci vado pure io lo so quali sono le lamentele delle persone le conosco benissimo chiaro che dobbiamo avere un'attenzione sullo sguardo quotidiano e dobbiamo avere una visione dobbiamo avercela tutti quanti io francamente poi ho trovato un po' così sorrido un po' da una parte mi si dice che sono sindaco debole però come dire adotto delle prove di forza e poi contestualmente verrei anche chiamata dalle altre città perché così sesto come dire a voce in capitolo e rafforza le scelte delle altre città benissimo cioè apprendo che c'è una 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 discrasia notevole rispetto al ruolo che esercito forse non c'è una capacità di di capire invece che qualcosa come dire anche l'autonomia di pensiero permettetemi di un sindaco che governa una città di 82.000 abitanti sulle farmacie questo fantomatico no no buco non è fantomatico su questo fantomatico comunicato stampa dell'Italia dei Valori io ammetto di non averlo letto mi è stato adesso riferito qualcosa quella dopo di che io mi dico ma se questi meravigliosi consigli fossero arrivati in quest'anno e mezzo in cui avevo un vice sindaco dell'Italia dei Valori non sarebbe stato meglio adesso andrò a guardarmelo ovviamente questo comunicato stampa dopo di che ce l'avevo al mio fianco mai una volta che abbia detto qualcosa sullo stato di farmacie o dei consigli ma mi riserverò di andare a controllare ovviamente il comunicato stampa ultima ultima cosa un ringraziamento un ringraziamento di cuore a tutti gli uffici e dirigenti e i loro funzionari che in questi giorni ci hanno accompagnato ai direttori Orsetti e Fiori che non si fanno manovrare ma che hanno la capacità anche di porci delle questioni che fanno capire come a volte la politica anche se ha un'idealità possa sbagliare e permettetemi comunque di dire che dei toni troppo forti nei confronti loro e del segretario Gabriella Di Girolamo che oggi non può essere con noi sono stati usati sono stati usati chiudo dicendo un'ultima cosa due anzi se un atto di cottesia istituzionale e cioè quello di chiamare al telefono i capigruppo per informare di una cosa che il regolamento prevede deve essere poi interpretato o interpretabile in modo strumentale me ne farò una ragione questa non è l'apertura che avete chiesto però lo trovo anche molto sgradevole e un ultimo passaggio che non ho capito però poi avremo modo di approfondirlo non ho capito dove abbiamo sbagliato sulla Campari su Alston abbiamo coperto dei buchi secondo me abbiamo colto delle opportunità però forse ho capito male e poi ci sarà modo di confrontarci grazie grazie ha chiesto prima di andare alla dichiarazione di voto ha chiesto la parola per fatto personale il consigliere Caponi e il consigliere De Noi prima il consigliere Caponi prego sì grazie presidente ma rispetto alla vado in ordine visto che sono stato chiamato più volte in causa consigliere Vavassori io non sono bravissimo sul sistema informatico ma mi sono adeguato certo c'è qualcuno della maggioranza che se ne intende meno nell'inviare l'email ma sul mio cellulare c'è la richiamata alla presidente Boccia quindi volevo soltanto avvisarla che ho già preso notizia della convocazione quindi inutile fare quel passaggio consigliere consigliera Pietra in agosto non ho avuto il trasloco al di là dei fatti personali mi preoccupo perché se si ricorda lei dice di no comunque lei disse che c'è un referente nella consulta dello sport che è anche presente dando il numero di telefono per quanto riguarda il parco giochi mi dà un assist fantastico non me ne voglio al sindaco ma quella bellissima serata dove c'erano dei referenti delle persone che erano appena rientrate dall'America a presentare un progetto che volevano portarle a sesto e che è stato realizzato in altri comuni a costo zero beh il nostro sindaco e mi pare di non essere stato io a fare alcun commento era impegnato in campagna elettorale a Bresso tant'è che qualcuno disse semmo il sindaco di Bresso o il sindaco di Sesto San Giovanni non me ne vuole tanto per fare chiarezza consigliere De Noia ce n'è anche per lei io mi ricordo che una volta il consigliere Romaniello disse che se non vi è ignoranza e vi cattiveria io credo che nel suo intervento non ci sia cattiveria ignora soltanto tre fatti il primo è che non sono stato iscritto a alcun partito politico è vero che sono stato anche spesso corteggiato da forze politiche ma non abbiamo avuto la testa di partito secondo il comunicato stampa si riferisce quando lei era capogruppo Italia dei Valori quindi se non sa nulla di quella circostanza di quei fatti se lo prenda con l'allora suo partito perché e qua lo dico al sindaco nel comunicato stampa dell'Italia dei Valori c'è stato chiaramente che sono stati dati dei suggerimenti all'amministrazione quindi questo perciò la terza cosa rispetto alle tabelle visto che lei ci ha così deriso come spesso sulle nostre proposte concrete magari lo fa tenga solo presente che non parlavo di tabelline di presenza come a scuola di presenza perché giustamente come la consigliera Landucci ha appena detto nel suo intervento prima e io l'ho ribadito è ora di finirla che alcuni consiglieri promuovano dichiarazioni sui giornali comunicati stampa senza essere mai presenti da cui comunico tutto il consiglio comunale che sul nostro sito della nostra lista civica da settimana prossima noi pubblicheremo le presenze dei vari componenti delle commissioni e anche le assenze perché è giusto che la città sappia e i cittadini sappiano a chi è andato il voto chi presenzia chi non presenzia perché mi pare di ricordare che il capigruppo vedo sempre le solite facce eppure le commissioni no 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 mancano anche parecchie capigruppi vicepresenti dei consigli comunali questo era il non solo se mi fai finire rivolta anche per quanto riguarda le commissioni grazie consigliere De Noia per un fatto personale sì grazie io volevo intervenire rispetto a in un certo senso devo anche ringraziare la consigliere Aghioso devo ringraziarla perché effettivamente parlava di uno che ha cambiato tre partiti allora nel 1997 lo sa che io facevo parte dei giovani sestesi che era un partito il partito dei giovani sestesi le fotografie le trovo nella sua sezione ok le ha viste le fotografie stiamo parlando di 15 anni fa 1997 io non rendego niente sa qual è il grosso problema il grosso problema è che quando chi fa queste cose qua chi fa queste cose come noi sapevamo di attirarci le critiche e il crucifisso di tutti quanti però anche quando appoggiamo qualcuno lo diciamo in giro noi lo diciamo noi provi a chiederlo al suo segretario che forse lo sa per cortesia sta parlando di 15 anni fa adesso parla di oggi è prima parola di 15 anni fa allora si decida se parla di oggi o di 15 anni fa il problema è che molta gente molta gente i consigli che ci hanno dato era non esponetevi non dite non fate e invece noi diciamo e facciamo e lo abbiamo fatto alla luce del sole e non rinnego né quello che ho fatto 15 anni fa e né quello che ho fatto adesso e non rinnegherò mai perché a me anche essere iscritto a un partito non ha mai fatto schifo non devo far finta di non essere iscritto a un partito o di non aver aderito al movimento perché così in questo momento mi do una verniciata e faccio qualcosa di diverso l'ho detto prima lo dico adesso non mi vergoglio né di quello che ho fatto né di quello che sto facendo adesso grazie grazie a lei consigliere De Noia andiamo alla dichiarazione di voto consigliera Iose per cortesia la parte più delicata della discussione andiamo prego prego allora mi scusi consigliere De Noia io mi stavo riferendo alla dichiarazione che lei ha fatto in questo momento nel momento alla dichiarazione che lei ha fatto quando ha dato della banderuola ad altri consiglieri comunali e mi sto riferendo al presente visto che tra l'altro il presente è un tema a tutti voi molto cari caro perché tutte le volte che si fa riferimento al passato ci rimproverate dicendo parliamo del presente su qualsiasi argomento io in questo momento sto collaborando e sono rappresentante in consiglio comunale per una lista civica che non ha appoggiato nessuno e personalmente personalmente ma questo mi rendo conto che a livello di giurisdizione è consentito io ho sempre pensato che una persona che si candida in un partito resta in quel partito se non gli sta più bene se ne va a casa e la volta dopo si ripropone con chi più gli fa comodo semplicemente questo ho detto perché questa è preverenza a mio avviso abbiamo capito va bene allora andiamo avanti con la dichiarazione di voto per cortesia il gruppo la parola al gruppo alla dichiarazione di voto consigliera Iose prego grazie presidente solo un inciso sindaco non mi perdoni probabilmente non ho usato lo stacco giusto del punto tra un concetto e l'altro non volevo dire che Alstom ABB o quant'altro abbiano coperto i buchi volevo semplicemente dire che giustamente come lei spesso ricorda sono aziende che portano lustro alla nostra città perché si sono insediati nel nostro territorio ma non creano e non generano qualcosa di nuovo per quello che riguarda il lavoro perché sono sedi che si sono spostate che hanno spostato i lavoratori e hanno scelto il nostro territorio con tutto quello che di bene ne può venire però bisognerebbe guardare anche al lavoro per il futuro per i giovani e che cosa costruiamo sulla città costruita per i giovani punto comunque il nostro voto per questa delibera è contrario grazie gruppo federazione della sinistra il consigliere Foggetta sì permettetemi un attimino solo di rispondere alla questione tirata fuori dal consigliere Caponi io no siccome io mi sento molto preso in causa in questa cosa purtroppo per questioni lavorative faccio fatica molto spesso a presenziare alle commissioni semplicemente perché se voi alle 6 finite di lavorare e andate a casa a mangiare magari subito dopo a dormire io alle 6 molto spesso mi devo preparare per andare a lavorare fino alle 5 del mattino dopo come sarà appena finito questo consiglio comunale quindi mi rimane e mi risulta molto difficile in questo devo dire che ringrazio la possibilità di avere le registrazioni delle commissioni per poter ascoltare e dire quindi la tabellina come si diceva prima rimane un po' inutile anche grazie a queste registrazioni riguardo alla delibera favorevole grazie gruppo sinistra ecologia e libertà e consigliere Nossa sì grazie anch'io volevo fare un piccolo inciso nella mia dichiarazione di voto ma è piccolissimo nel senso che anch'io non sono stato avvisato dal consigliere Vapassori della commissione ma mi ha avvisato l'assessora Montrasio e in questo devo dire grazie nel senso che la voce dell'assessora Montrasio è sicuramente molto più doccia e delicata di quella tenebrosa del consigliere Vapassori quindi ringrazio ancora e che venga messo agli atti perché mi ha fatto piacere questo ho percepito nel dibattito perché è vero ci sono comuni che in Italia hanno giocato con i soldi dei cittadini investendo nei cosiddetti derivati questo era un gioco il nostro comune non l'ha fatto quindi bisogna anche poi a volte completare le frasi se no rimangono a metà e vorrei sottolineare sempre che i comuni sono in prima fila tornando alla motivazione del mio voto della delibera negli investimenti investimenti che per la grande maggioranza hanno delle ricadute positive sull'indotto locale quindi vorrei perorare una causa nel senso che non si possono cambiare le regole del gioco mentre stiamo giocando la partita sta quasi finendo sia il 30 di novembre perché siamo in difficoltà ma siamo in difficoltà non verso noi stessi siamo in difficoltà verso i cittadini o verso degli impegni che magari si sono presi nel tempo è anche vero che gli spostamenti di aziende a volte significano aumenti o diminuzioni di organico nel nostro caso significano aumenti di organico perché si vanno ad ampliare e poi in settori magari di qualità si siamo dimenticati della Heineken forse volevo così dirla perché è un'azienda che anche questa da Milano è venuta a sesto in compenso probabilmente l'Oracle piuttosto che la Metroni forse vanno via però questo è sempre per chiudere correttamente un discorso per non farlo rimanere a metà e per essere diciamo nella correttezza degli atti la mission e la vision secondo me dei comuni corrispondono alla stessa cosa ossia la mission e la vision devono soddisfare i bisogni dei cittadini anzi un comune deve prevenire i bisogni dei cittadini perché quando vanno soddisfatti vuol dire che a volte siamo in ritardo bisogna farlo con i mezzi a disposizione del comune in questo caso del nostro comune perché stiamo qui a discutere del nostro comune insisto nel dire che un bilancio partecipato ci aiuterà in futuro anche se l'assessore a Montrasio ha già preso impegni in questo senso noi voteremo a favore di questa delibera per quello che è stato detto da me quindi dal nostro gruppo fino a questo momento grazie grazie gruppo misto la consigliere Landucci prego sì grazie quindi volevo sottolineare due cose la prima è che in effetti 2.000 comuni stanno a fronte di 8.300 comuni quindi saranno i più grandi saranno i più importanti ma comunque sono come dire il 20% allora bisogna sempre dare atto che si è voluta combattere una battaglia che non era la battaglia del Lanci perché se fosse stata la battaglia del Lanci sarebbe stata una battaglia più globale allora questo dopodiché il sindaco voleva farlo secondo me l'errore c'è stato giovedì mattina è chiaro che giovedì mattina è stato chiaro che il governo non avrebbe permesso questa possibilità avrebbe chiesto una compartecipazione sarà del 60 è uguale quindi io a quel punto come avevamo chiesto noi avrei ritirato la delibera avrei fatto giovedì sera quello che mi ha fatto oggi esattamente questo cioè questo che non ho capito cioè già io potevo non essere d'accordo sull'inizio però nel momento in cui era evidente che il governo aveva sgamato il gioco politico e aveva fatto scaccomatto lui perché è chiaro che aveva fatto scaccomatto il sindaco il governo e naturalmente scaccomatto per quelli come noi che non ne avevano bisogno perché ripeto quelli che ne avevano bisogno comunque guadagnano il 60% i cittadini perché sennò avrebbero dovuto pagare tutto quindi da questo punto di vista io ritengo che questa manovra sia stata politicamente inopportuna all'inizio e sia stata poi come dire testardamente proseguita quando era evidente la sua inutilità costringendo e io sì sarà legittimo qualunque cosa di ritirarlo fino all'ultimo minuto all'ultimo secondo però è chiaro che si tratta di comportamenti che vanno contro una normale quotidianità tant'è vero che i cittadini hanno molto protestato sulla rete di questa cosa hanno molto ho capito ma il regolamento parla naturalmente di emergenze qui abbiamo fatto passare per emergenza un gioco politico che giovedì mattina era già chiaro sindaco tutti gliel'abbiamo detto che entro oggi non sarebbe uscito nulla e infatti lei mi ha detto che entro oggi non è uscito nulla ho capito ma noi a questo punto siamo là allora torniamo indietro allora non lo votiamo più è chiaro che oggi non lo sapevamo è chiaro che non lo sapevamo ma era chiaro soprattutto oltretutto il comunicato stampa del governo è in genere la prima voce ufficiale del governo adesso naturalmente fra poco il presidente mi dirà che sto chiudendo i tempi però io sottolineo al presidente che l'assessore e il sindaco hanno parlato dalle 17.21 alle 17.40 quando il regolamento articolo 73 parla che la replica del sindaco e o dell'assessore non deve superare i 10 minuti quindi la prego presidente lei che è molto attento ai tempi dell'opposizione la prossima volta di essere attento anche ai tempi dell'amministrazione perché dalle 17.21 alle 17.40 hanno parlato tutte e due e questo quindi hanno raddoppiato i tempi loro concessi praticamente quindi il mio voto è contrario per un motivo molto semplice perché secondo me in questo bilancio manca la copertura del buco delle farmacie e quello sarebbe stato necessario cioè a mio avviso sarebbe stato necessario un accantonamento molto maggiore per il semplice fatto che noi sappiamo con certezza che il buco sarà superiore ai 500.000 euro non sappiamo come si come e quanto sia percorribile la strada della SRL e comunque questa strada non è ancora stata iniziata quindi secondo me secondo me sarebbe stato necessario prevedere una maggiore copertura fuori bilancio un maggiore accantonamento io ritengo che questo sia molto pericoloso anche perché di fatto approvando il bilancio così com'è si obbliga la maggioranza a dire sì alla SRL perché è chiaro che con questo bilancio approvato e assestato così non c'è altra strada mentre invece se ci fosse stato un accantonamento maggiore è chiaro che sarebbe stato possibile scegliere con maggiore serenità se passare alla SRL o rimanere all'azienda speciale secondo me questo è un grosso rischio che stiamo correndo perché io l'ho già detto in commissione e lo ripeto adesso prima di l'avevo detto prima di vedere il comunicato del diserzo nel cuore che probabilmente ha delle conoscenze tecniche in questo momento ci sono dietro conoscenze tecniche maggiori delle mie ma è chiaro che pensare che sia legalmente possibile che una società un'azienda speciale con un buco di 2 milioni possa gratis diventare una SRL coprendo le perdite di un'azienda diversa con un avviamento che verrà ammortizzato in 18 anni mi pare un'arrampicata su muri scivolosissimi su muri scivolosissimi anche così a orecchio io non sono un'esperta di diritto societario però ripeto che mi sembra molto spericolato è chiaro che non prevedendo un accantonamento maggiore ci siamo tagliati i ponti alle spalle io fosse da una maggioranza non li avrei tagliati però sono scelte vostre e come dice una volta la consiglia della Pietra se vedremo la Corte dei Conti ci chiederà i soldi pazienza adesso alla giunta di penati in provincia gli chiedono 120 milioni di euro le vedremo le vedranno insomma saranno contenti bisogna stare attenti nel pubblico perché la Corte dei Conti ci metterà anni ma arriva sempre e quando arriva viene a ricercare tutti viene a ricercare tutti io starei attento a fare dei voli pindarici troppo forti sul diritto societario di cui tutti non sappiamo nulla quindi per questo il mio voto è assolutamente contrario grazie in merito alla parola che ho dato al sindaco secondo me per informazioni utili verso la cittadinanza io gli darò sempre la parola per queste cose detto questo gruppo Movimento 5 Stelle la consigliera Franciosi prego sono delle informazioni utili alla cittadinanza grazie eh beh qualche discrezione ce l'ho anch'io se no va beh eh abbia pazienza prego consigliera Franciosi vabbè abbiamo capito consigliera Franciosi prego grazie presidente allora visto che la questione del virtuosismo ha fatto breccia nei cuori di tutti oggi pomeriggio vi faccio una domanda cosa ne penserebbe l'associazione avviso pubblico di tutte le questioni discusse oggi pomeriggio vi siete chiesti se state operando in accordo con le linee guida dettate dalla carta di Pisa perché noi quel documento lo abbiamo votato all'unanimità solo pochi mesi fa e ci siamo presi una grande responsabilità decidendo di aderire da quell'associazione visto che si parla poi anche di battaglie politiche io vi proporrei a questo punto mi è venuto in mente adesso mentre si parlava di si pensava che cosa tagliare a Roma eh di iniziare una grande battaglia da parte di tutti gli enti locali di far pagare alle società delle slot machine tutta la loro multa perché questa perché questa è una lotta che gli enti locali dovrebbero fare perché quel taglio lo abbiamo pagato noi l'ultimo inciso noi non siamo né di centro-destra come qualcuno noi del movimento non siamo di centro-destra non mi ricordo più esattamente da chi è venuto fuori ma vorrei ci terrei a dirlo fortemente non solo ma quando fate riferimento al gruppo del PDL riferendosi riferendovi a loro come minoranza vi chiederei cortesemente di non farlo l'ho chiesto più di una volta non siamo noi noi poi non solo loro ma io parlo a nostro nome non siamo del PDL per cui se si parla del PDL per cortesia non parlate di minoranza no lo hanno detto prima lo hanno detto prima riferendovi a voi dicendo poi della minoranza è continuo non è la prima volta che viene fuori questo discorso noi voteremo contrario a questo bilancio perché io durante il mio intervento ho fatto delle riferiche richieste ho chiesto dei chiarimenti che non ho ottenuto ed erano i chiarimenti o quantomeno le stesse cose di cui ha parlato la consigliera Landucci io di mettere in pista 500 mila euro su un progetto che non si sa bene se e come andrà a finire sinceramente non mi sento la responsabilità di votarlo grazie grazie gruppo popolo della libertà consigliere la miranda prego grazie signor presidente ma c'è chi si litiga per i nomi dei partiti e c'è chi voleva rimanere un partito e li hanno pure sciolto quindi da questo punto di vista ognuno ha i suoi problemi come consigliere comunale ma devo dire che sostanzialmente è condivisibilissimo il ragionamento della collega Landucci con cui quasi sempre siamo in perfetta sintonia tanto è vero che sono andato a rivedermi un attimino tra i vari messaggi con la capogruppo Antonioli perché nel rispetto ovviamente istituzionale essendo io formalmente capogruppo anche aveva investito anche a me della questione dei problemi esistenti sulla delibera proposta mercoledì sera in commissione ho visto che alle 9.36 del mattino di giovedì gli avevo già dato praticamente la soluzione e la posizione dopo che gli avevo detto mi sono già sentito con Franca abbiamo già analizzato tutta la questione e abbiamo già per parte nostra individuato il percorso da tracciare e su quello avevo già detto chiaramente ho detto consiglio al tuo sindaco di ritirare immediatamente la delibera e stasera andiamo a fare l'assestamento altrimenti se è una delibera politica assumetevi la responsabilità politica di votartela e portatela avanti costi quel che costi e quindi credo che questo sia il ragionamento sostanzialmente da ribadire che che se ne dica cioè nel senso che torna a dire giustamente rivolta dice il bilancio è politico beh in politico ma in parte perché io posso essere anche un buon amministratore mantenendo certi tipi di servizi ma andando a fare il buon amministratore tagliando la spesa corrente perché il problema nodale è che finché non taglio la spesa corrente posso fare tutte le alchimie contabili possibili per cercare più soldi possibili per mantenere i costi dei servizi che comunque per loro natura aumentano nel corso degli anni perché comunque c'è un'indicizzazione generale dei costi per mantenere questi servizi ma se mantengo la spesa strutturale della spesa corrente senza mai cercare di intervenire realmente drasticamente su questa ecco che il mio bilancio non tornerà mai i conti non quadreranno mai ho visto poi che c'è stato un po' di riferimento perché anch'io ignoravo il comunicato dell'Italia dei valori poi vabbè ci sarà una solita apposta ma guardi che attaccano lei direttamente dicendo che hanno dato a lei le soluzioni da oltre un anno se questo si somma a quello che ha fatto il comunicato Stampa Crusatti ognuno poi ne trarrà le sue conclusioni perché si tratta di capire perché qua ovviamente sono diverse versioni e quindi dovranno essere sentiti e chiarite tutte queste posizioni sul bilancio devo dire che di solito sull'assestamento abbiamo sempre avuto un atteggiamento prudenza istituzionale di una stensione tecnica perché si trattava giusto dell'aggiustamento dei conti a differenza magari del bilancio di previsione che era più di indirizzo politico su certe spese piuttosto che altre in questo caso però no perché c'è quell'indicazione specifica di parziale copertura del debito di bilancio della perdita chiedo scusa l'inserimento della voce a copertura della perdita presunta delle farmacie superiore a quei 420.000 euro di cui ad oggi ci risulta essere la perdita 2012 perché questa è la perdita 2012 ma siccome abbiamo tutti visto e letto la due diligence e quindi quella che è la proposta della società di revisione dell'approvazione del nuovo bilancio 2012 vorrà capire poi il revisore dei conti che all'epoca firmò il bilancio 2012 come fa a rifimare il bilancio 2012 che tra parentesi giusto per farlo per chi non lo sa è l'assessore al bilancio del comune di Monza e quindi vorrei capire da questo punto di vista come è possibile inserire una posta di questo genere artatamente perché sappiamo benissimo che è una cifra che non corrisponderà e non sarà mai sufficiente a coprire il bilancio perché della perdita del bilancio delle farmacie perché con la riserva legale attualmente che ha quell'azienda e questa somma messa a bilancio comunque non copriamo la perdita e quindi è evidente che ci sarebbe un buco nel bilancio comunale perché dovrebbe essere coperta ulteriormente questa questa ulteriore posta mancante io credo che questa non sia la trasparenza che probabilmente molti invocano correttezza avrebbe dovuto dire non abbiamo ancora una decisione di consiglio sulla destinazione trasformazione o meno di questa benedetta azienda non sappiamo ancora nulla del piano industriale o meglio abbiamo voci contrastanti poi leggo i comunicati capisco magari alcune cose che ho saputo di ieri e dell'altro giorno quindi da questo punto di vista viviamo nell'incertezza più assoluta su questa azienda andiamo a fare per legge un assestamento beh trasparenza avrebbe voluto dire inseriamo tutta la voce se poi dovessero avanzarci perché riusciamo attraverso un altro meccanismo ad avere meno perdita quella sarà una posta attiva che io impiegherò diversamente poi nel bilancio perché mi rimarrà e quindi potrò sul bilancio dell'anno successivo impiegarla pacificamente in questo modo invece io non consento di avere questa linearità e trasparenza sul progetto farmacie e io credo che questo sia già un partire male nel rimetterci mano alle aziende e io credo che questo non vada bene nell'essere buon amministratore per cui il mio voto personale sarà contrario grazie vabbè siamo andate anche a pareggio con il rispetto dell'orario visto che lei ha splafonato la randuccia splafonata siamo alla pari allora andiamo gruppo verso sesto consigliere De Noia prego grazie presidente il nostro voto sarà favorevole gruppo sesto nel cuore consigliere Caponi prego grazie presidente ma ma non votate Cooper scusa quindi non siete sesto o PD non abbiamo capito comunque vabbè dai consentimi una battuta alle 6 di sere che siamo dopo 4 ore dunque sulla base degli interventi io rilevo soltanto che non c'è stata data alcuna risposta rispetto alle valutazioni tecniche che abbiamo fatto al bilancio perché al di là di quelle che sono state le considerazioni politiche di carattere del governo centrale noi abbiamo posto su delle partite di bilancio alcune posizioni specifiche e ho parlato chiaramente di un concetto aleatorio rispetto a un concetto di concretezza che dovrebbe accompagnare la stesura di una variazione di bilancio quindi già da questo dato preannuncio il nostro voto contrario l'altro aspetto però che vorrei analizzare è che mi spiace che sia stato interpretato il nostro intervento come una predica perché noi abbiamo fatto abbiamo avanzato una serie di proposte di idee e di richieste di chiarimento al sindaco le quali possano essere viste in un modo sicuramente magari poco gradevole in una dialettica di consiglio comunale ma sono certo che in un'analisi molto più attenta il sindaco può trattarne anche dei vantaggi dei benefici per una politica più attiva sul territorio di certo la scelta presa dall'amministrazione è stata una scelta a mio parere imprudente più che sbagliata perché ha messo in condizioni di ridursi all'ultimo mettere gli uffici e lavorare in una maniera spasmodica poi per carità a noi va bene anche la convocazione a livello telefonico l'abbiamo detto nessun tipo di problema credo che debba prevalere una sorta di garanzia sotto il profilo dei rapporti personali visto che tutti siamo impegnati in una battaglia comune che è per il bene della città lei parlava signor sindaco di essere andata a Firenze a vedere questo sviluppo di questa realizzazione di queste aree beh io credo che lei tocca un tema importante perché sarebbe stato bello invece avere una visita all'incontrario che fossero ovvero gli altri cittadini delle altre città venire a vedere la nostra sesto perché credo che il vero problema e l'ho già detto e ci vede tutti quanti riuniti non è quello di discutere 500 mila euro delle farmacie o il problema dell'ipotetico entrotto delle contravvenzioni recupero a tassa del suolo ma noi ci portiamo a un trascorso pesantissimo di 25 anni di aree delle città che sono state inutilizzate e io penso veramente a cosa sarebbe stata la nostra sesto con delle aree dismesse più grandi d'Europa messa a frutto saremmo probabilmente veramente un paese una città una città virtuosa un'amministrazione virtuosa probabilmente avremo anche un'abbondanza di risorse economiche ecco a me piacerebbe sentire sotto questo aspetto e potrebbe essere veramente un modo di una politica innovativa ammetterlo perché noi oggi stiamo discutendo di dove trovare le briciole dei vari centesimi nelle tasche dei cittadini sestesi semplicemente perché abbiamo avuto le aree più grandi d'Europa dismesse ferme inutilizzate per decenni che sono state un grosso peso per la nostra città io mi auguro veramente che tra 15 anni possano essere i fiorentini a poter venire a visitare la nostra città vederla come modello di sviluppo da qui preannuncio il nostro voto contrario grazie gruppo partito democratico la consigliera Antonioli prego grazie signor presidente allora volevo ribadire alcune considerazioni alcuni concetti allora primo concetto che riguarda una parte della minoranza come chiede la consigliera franciose allora riguarda PDL fratelli d'Italia Forza Italia non lo so adesso come si chiamino comunque l'abolizione dell'Imu che ha voluto fortemente Silvio Borlusconi ha portato ha portato i liberi professionisti e i dipendenti a un versamento entro il 2 di dicembre del 101% delle tasse alle aziende entro il 10 di dicembre porterà il 103% nel 2012 la conto era del 96% quindi questa è una prima precisazione poi volevo ribadire il concetto che è comunque non un concetto noi siamo una buona amministrazione abbiamo un buon sindaco la delibera è stata ritirata per non far pagare ai cittadini nessun centesimo in più il sindaco la giunta ha approvato ha lavorato e alla fine visto che si andava a far pagare di più ai cittadini abbiamo è stata ritirata la delibera quindi secondo me il nostro comune è un comune e rimane un comune virtuoso noi lottiamo contro il gioco d'azzardo come sapete benissimo perché è uscita abbiamo fatto anche c'è una delibera stiamo raccogliendo le firme quindi penso che il nostro comune non sia nel gioco d'azzardo come prima è stato detto da qualche consigliere poi consentitemi medioevale è chi pensa di togliere i servizi e di lasciarli in mano alle opere di carità con tutto il rispetto che ho per chi fa le opere di carità penso che questo sia molto medievale l'ultima colata consigliere Caponi è del 96 quindi non 25 anni fa e questo sindaco è riuscito a portare la città della salute e fare e iniziare a lavorare sulle trasformazioni vado alla dichiarazione di voto il nostro voto è favorevole l'approvazione dell'assestamento riconosce l'equilibrio equilibrio difficile in un quadro di continuo attacco ai bilanci comunali occorre cambiare politiche sulla finanza locale anche ridiscutendo con l'Europa e tutelando chi è in prima linea nel rapporto con le comunità locali grazie grazie consigliere Antoniolli quindi sottopongo a votazione la proposta di delibera di variazione e assestamento al bilancio 2013 inizio votazione prego fine votazione consiglieri presenti al voto 23 contrari 8 astenuti nessuno favorevoli 15 il consiglio approva un attimo che dopo c'è la seconda votazione non ci ci puoi trasmettere dopo termine allora prima di concludere un attimo la parola sindaco per una spiegazione al consigliere Capone solo per informazione perché avevo già sforato nel tempo e quindi non volevo spiegare perché non volevo non ho avuto l'opportunità di spiegare perché sono andata a Firenze secondo me noi facciamo parte di un'associazione che si chiama Audis che è l'associazione delle aree italiane delle aree di smesse c'era l'assemblea altre volte l'assemblea è stata fatta a sesto quello che lei chiedeva cioè di far visitare alcune aree riqualificate Breda Campari l'abbiamo già fatto e in quell'occasione c'era anche il sindaco all'urbanistica di Firenze grazie buonasera e a lunedì grazie a tutti arrivederci